Amici di Twitch, buonasera a tutti. Stasera non mi sono neanche sbagliato con la scena, cioè è incredibile, penso sia il primo primetime che metto la scena giusta. Buonasera a tutti, come state? Noi stasera stiamo una bomba per due motivi. Ah, questo è il season finale, no, potremmo definirlo, del primetime, cioè siamo tutti un po' tristi, però una bomba perché poi ripartirà a settembre, quindi insomma stasera ci si aspetta tanta tanta roba. Can't wait proprio. Da questo primetime. Il secondo motivo perché stiamo una bomba è un evento enorme in cui saremo coinvolti che non potevamo spoilerare fino a che non c'era carta canta, adesso carta canta c'è e e quindi a metà live spoilereremo questa cosa. Ha pure suonato sta carta. Vedo Davide, vedo Davide. Andrete a live aid. No, figo, figo. Ancora più grande, ancora più grande, ancora più grosso. Ancora più grande, vabbè. Davide, benvenuto. Ciao amici, amici. Come stai? Come stai Davide? Sto incriccato, sto con un cerotto dietro la schiena, sai, di quelli caldi, perché so una contrattura, io sono soggetto a contratture della schiena e la muscolatura della schiena mi si incricca ogni tanto e niente, quindi... Ah, vedi? Sto a porcerottino, regà. Sto a proprio un vecchio indisfacimento. Guarda, non tocchiamo il tasto vecchio e malanno di fisici che qua potrei aprire un vaso enorme. Comunque, fatemi salutare tutti voi che ci state seguendo numerosissimi come al solito. Saluto i mod, Jackie Jack e Fanpage, che vedo connessi, Polizia e il canale, sapete tutto. Insomma, i nostri peeps, Mr. Lannister, Tommy Rolando, Simona e un saluto anche a tutti gli altri che stanno scrivendo. Ma sarete a Napoli Comic Con, Tommy. Ma quale Napoli Comic Con? Pensa in grande, pensa enorme. Vabbè, però c'è una cosa che coinvolge il Napoli Comic Con e che andrebbe detta a prima di sconerare quell'evento, proprio. Cioè che quella cosa che ci vedeva coinvolti... Avremmo dovuto essere presenti, ma alla fine non saremo presenti. No, perché c'è una cosa che veramente molto più grossa che spoilereremo a metà live, quindi siateci perché se volete scoprirlo, domani starà sui giorni. Come detto in Giappone. Ma che in Giappone? Adesso stiamo esagerando. E' più, e' più. Però, però, ovviamente vado a ringraziare i nostri ospiti questa sera, ormai li conoscete benissimo, Simone Buonfantino, Giulia Santilli, Lorenzo Crisci e Davide Perino. Grazie, insomma, per essere qui con noi. Salute. Anche con la Guinness. Salute. Slonce. Vado a ringraziare anche purtroppo i miei streamer, chi è più bravo, meno bravo, insomma. Spanchi, che devo fare? Te ringrazio pure a te. Prego, prego. Davide, tra un po' mi scatto alla pipìca. Ragazzi, ma Spanchi ha fatto un bellissimo TikTok. Allora, tu ti devi, però, aspetta che io, se non sbaglio, ho ancora i poteri. E' bello, però, davvero. A me è piaciuto davvero. Ti prego, lei ancora. Poi che era sincero. Giulia, Giulia. Hai messo like? Sì, Giulia, dai. Ciò che gli ho detto, sei uguali, però. Sì, sei sincera, sono un po' di che ti è piaciuta quella cosa, dai. No, a me è piaciuto, poi io sono fan. Quindi, mamma mia, sono toccato, capito? Va bene, che brava Spanchi. Fan anche di Mandalorian, sono fan di Spanchi. Ok, che strana, che strana. Spanchi, qualsiasi cosa fa, la fa bene. Questa è la via. Beh, oddio. Brava Spanchi! Potremmo certificare il contrario. Un IP per Fanchi! Un IP! Urra! Urra! Vabbè, grazie di aver rovinato questo momento rarissimo di... Prego, prego. Spanchi, dopo il mio ultimo commento, aspetto il bonifico, scrivono in chat. In chat vedono similitudini tra i nostri ospiti e dei personaggi, penso, del mondo di Oz, perché dicono Davide Perino è l'uomo di latta, Simone lo spaventapasseri, Rox il leone, Giulia Santilli, Doroti. Così. Bello! Vi piacciono queste assegnazioni? L'uomo di latta. Io avrei dato l'uomo di latta a Simone. Per chi? Per quale motivo? Mi ricorda di più, un uomo di latta è tu più uno spaventassi. Per Iron Man, che in realtà è... Che ha disegnato Gesù con la tuta di anima, forse per quello. Cosa mancava all'uomo di latta? Il cervello, forse, no? Il cuore. No, il cuore... All'uomo di latta è il cuore, allo spaventapasseri il cervello e al leone il coraggio. Il coraggio, è vero, è vero, è vero. Comunque... Il coraggio nel canale di fonio. Felice, si possono fare domande. Hai ragione, non ho fatto la classica introduzione, perché per chi è magari la prima volta che sta qui... No, devi fare la classica introduzione. Si possono... E poi la prima volta non si scorda mai, devi farla. Questo è il primetime col man, quel format che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno della cultura pop e le va a mettere in un contesto dove parlare di qualsiasi cosa, purché non sia del proprio ambito di competenza. Quindi noi... Io non andrò a porre domande, andrò semplicemente a leggere... Darei solo risposte. Alcune delle vostre, è bello. Alcune delle vostre e ci faremo guidare, insomma, da voi. Quindi siete voi, diciamo, gli autori, no? Di questo bellissimo format. Sembra un po' quella cosa, tipo... Ti vi ricordate quando c'erano i giochi del telefono con il leone, no? Che tu spingevi in tasto, gli dovevi fare da destra a sinistra, sta parlando di tipo trent'anni fa, eh? Su Rai 1. O tu con i telefoni di trent'anni fa. No, 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 in televisione. Eh, in televisione, ragazzi. Esatto, che tu decidevi la sorte del... Era della Twiz, il leone Twiz, forse. Bellissimi. Lo ricordo perfettamente. Quindi sì, si possono fare, ovviamente... Dicci. Pensa chi si connette oggi, no? Per la prima volta a vedere il prime time. Vede il suo primo prime time è anche l'ultimo di questa stagione. Cioè, c'è felicità e tristezza. Come sarebbe l'ultimo di questa stagione? C'è una gioia amara. Eh sì, è il finale. È il finale di questa stagione, ricominceremo a settembre con questo format. Carichi più che mai. C'è uno morirà prima. No, ma perché, scusa, perché interrompere da qui? Perché l'abbiamo fatto principalmente per voi, perché sappiamo che inizia il periodo estivo, insomma, iniziano anche molte vacanze. La movida. La movide, cose varie. E quindi, per darvi un attimo di respiro, infatti come vedi anche oggi, è stato un po' un ecatombo, ho dovuto prendere quattro rincalzi scarsissimi, per sostituire i nostri... In realtà c'ha minacciato. Non siamo noi. Quattro calzini, quattro calzini, quelli bucati, sporchi. Ha detto che se non fossimo venuti stasera non saremmo potuti andare all'evento. E quindi... Eh, esatto. Che hype. Che hype. Voglio sapere. Vabbè, faremo... Vuoi dire che in quattro mesi comunque faremo qualcos'altro insieme. Assolutamente. Faremo... Pensa che bell'idea. Dei let's play dal vivo. Come l'abbiamo fatto una volta con Davide. Tutti a casa di spanchi! Let's play dal vivo, a casa di spanchi, però con le persone del prime time. Cioè, bellissimo. E le piscina gonfiabile. Sì. E rufio. Ma io propongo di affettare una location più degna. No, no, no. Casa di spanchi. Casa di spanchi ormai. È benissimo, però c'hai ragione anche te, forella, che devi sentire casa. No, no, no. La tua location è molto bella. La tua location. Casa di spanchi. Casa di spanchi è perfetta. C'hai paura dei rufi adesso che tu lo fanno... Sì, c'ho paura dei rufi, va bene. Eh? Te lo coloramo, te lo fanno diventare. Sì, col cacchio ammazza tutti quanti, mi dissocio. Ma è verità. Oddio! Miau! Oh, ma questo è il nuovo arrivato! Sì. Sì. Ce lo fa vedere... Facci vedere! Ogni santa diretta ci fa vedere sto cacchio. È ormai è scappato. Ah, si chiama Rufi? Rufio. Ah, ok, no, infatti non capivo. E pensavo a quello di One Piece e dicevo, ma in che senso? Però posso dire che Rufio non fa una bella fine. Perché hai scelto questo nome? Rufio non fa una bella fine. Ma no, 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 no. Non è che ho scelto il nome per la fine che fa il personaggio, cioè. Quindi appena vedrai adesso uno con un uncino al posto della mano, proprio terrai lontanissimo dal tuo gatto. Ma no. Anzi, ci sarà uno scontro tra gatti, un gatto con l'uncino e lui. Bello. Mamma mia. Porta l'uncino la prossima volta. Bello. Luciano non si capisce nulla, ovviamente. Terrancino in quel film. E Andrea scrivi un libro. Cioè, neanche tu in quel film? Sì. Figo. Chi eri? Certo. Era un bimbo sperduto. Uno dei bimbi sperduti. Comunque, giochiamo a chiappa il gatto quando staremo da spanchi. Te preoccupando. Tutti a casa di spanchi, con Rufio! Tu, figlio! Eh, vogliamo cominciare a startare la serata? Pensa che fico il gioco, a chiappa il gatto, gli da una botta sul culo. Quello inizia a correre e tu lo devi a chiappare. Sì, sì, sì. Una bottarella, ovviamente. Una bottarella piccolissima. Cioè, tipo una sculacciatina, così. Ma no, ma senza toccarlo. Tu gli arrivi vicino e gli fai bucci, bucci, bucci. Poi fai... Non vedrete mai più casa mia. No, basta il la serino. Lo mettiamo con la serino. Zoom, zoom, zoom. E via. Bello. Bello, bello. Sognare. Il serino funziona. Non farlo, che è il sale della vita. Una volta il giardiniere di casa di mio padre, quando era ragazzino, gli prese un gatto e gli chiese, ma tu lo sai quanto è lungo un gatto? E lui dal ragazzino fece, non lo so, più o meno... Vabbè, adesso non entro della fotocamera. Ma dai, più o meno un gatto è così. E lui fece, no, adesso ti faccio vedere. È molto più lungo un gatto. Ha preso le zampe davanti, ha preso le zampe di dietro e poi ha fatto lì. No. No. Ha tirato il gatto così da lì. Ma il povero gatto. Come ha reagito? Ha scappato ovunque. Ma è bello. Vabbè, ma quelli per fortuna sono di gomma e si è allungato di un metro e mezzo a sto gatto. L'ho chiamato slinchi. Ma non è un film. È la vita vera questa. Questa è la vita vera. È una sacra capricciata. Ma non gli ha fatto male. Però, comunque, era buffa al povero. Non gli ha fatto male adesso, hai anche doppiato l'urlo. No, lo dico per gli animalisti. Non gli ha fatto male, è solo un urlo di spavento. Un urlo di gioco. Sì, sì, che gioco. Davide, lo proviamo anche con Rufio. La prossima volta andiamo a cadere spanchi, vediamo che succede. Ma secondo me dobbiamo farlo in due perché Rufio non sembra piccolo. È vero, dai. Uno tira da una parte e uno dall'altro. Andata, andata. Mi presto per questo esperimento in favore della scienza. Se fate una cosa del genere a Rufio non trova... Ma guarda, non c'è la minima possibilità che accada perché non si avvicineranno mai né a Rufio né a casa. Devi stare tranquillissima proprio. Lascia di parlare. Ma ormai sappiamo dove abiti spanchi. Eh, ma comunque una porta va aperta. Ma no, possiamo anche andare. No, noi ci mettiamo nel cortile, urliamo tutta la sera e prima o poi il condominio ti costringerà ad aprirci. Io chiamo le guardie. Mi piace. Comunque in chat, raga, me fate morire perché sta da scrivere... Aspetta, dov'era? Man, dagli un topo che se pia un colpo fidate. Poi ci sarà amore tra il gatto e il man dopo quello schiaffetto. Infatti poteva essere anche una cosa erotica. Spanchi lo deve fare strano. Eh? Ti piace? Che cosa? Parlo strano. Ah, metti la cosa, interpretazione. Dai, iniziamo... Come ci sta succedendo? Iniziamo, iniziamo con la prima domanda che è molto soft, che è in questo ultimo primetime, ultimo della stagione, non è l'ultimo, anzi diamoci anche una grattata perché quando... Che fa sta domanda? La fa Tommy, chiede, ma l'abbiamo già fatta sta domanda delle serie tv di infanzia Disney, vero? Mi ricorda? Eh, rotto le palle Tommy, vai. L'abbiamo già fatta. L'abbiamo già fatta. Lorenzo o me la Tommy? Beh, potremmo farla, le serie tv di infanzia, punto. Ah, dove sei? Ma mi pare che avevamo già fatto pure una cosa del genere, o sbaglio? Come sì. Simone conferma. Io mi ricordo, andiamo avanti. Dalla villa, Lorenzo. Andiamo avanti. Vero? Casaminova. Mi sa che avevamo fatto anche questa, raga, Origami scrive, Origami all'alba. Buonasera, vorrei chiedere qual è la citazione che più vi rappresenta. Questa l'avevamo fatta? La? La citazione, sì. La citazione che ci rappresenta. Buonasera a tutti, qual è la cosa più disgustosa che abbiate mai mangiato? Questa no, però. Questa si può fare, la cosa più disgustosa che abbiate mai mangiato. Oddio, disgustosa. L'ostrica. L'ostrica. Disgustosa. Disgustosa. Sai che io avrei detto la stessa cosa, vi posso raccontare un aneddoto sull'ostrica? In caso marzo. Vi racconto un aneddoto sull'ostrica. Io ho andato a Parigi e volevo mangiare alle Tremblè. Volevo mangiare. Lucia risolve il problema del microfono perché non te si può sentire. È un aneddoto. Sì, scopro. Sempre quello quando gioca ai videogiochi. È vero. Ma adesso ho risolto. Un secondo. Dai. Comunque era questo e andavo alle Tremblè, sono andato alle Tremblè perché c'era un film di Mr. Bean dove lui andava a sto ristorante e si mangiava il gambero. Ve lo ricordate quel film? Si chiamava. Sì, e poi mette nel tovagliolo. Esatto, poi mette l'ostrica in una borsa da signora vicino. E allora me l'ho fissato e dovevo andare là e provare l'ostrica anch'io. Quindi è andato là, ho provato l'ostrica, questo me la porta, me l'ha servita, me l'ha aperta. Io ignaro che c'era... Con il champagne? No, ostrica e basta. E ignaro che però c'andasse qualcosa sopra perché sennò fa schifo. Io me la so... Eh, ti metti un limone. Ho avuto veramente un conato di vomito con questo che mi guardava, io non potevo sputar l'ostrica perché c'era il cameriere davanti e mi guardava e quindi sono dovuto andare di corsa in bagno a sputarla appena girato e ho rischiato anche che vomitassi lì. Ma non potevi chiedere dove era il bagno? E ho capito ma c'era quello che mi guardava, cioè la nausea mi è venuta subito. No, dice, lo sapevi già dove fosse il bagno? Sì, perché c'era andato prima, c'era andato prima. Quindi sei passato pure per uno spisciacchione. Probabilmente sì, però l'ostrica, adesso Giulia mi dirà, perché a lei piacciono tanto, cioè la metti in bocca ed è molliccia e sa di mare, come se voi vi prendeste una cosa marina, qualsiasi cosa di marino, ve lo metteste in bocca e senti proprio il sapore del mare. Pure il riccio, pure il riccio. Non vanno masticate le ostriche, come non vanno masticate. I ricci, meraviglia. No, l'ostrica va assaporata, non lo so come si è ingrottita direttamente, almeno io ho sempre fatto così con il limone. Succhi e le mandi giù. Esatto. Perfetto. L'ostrica va così. Succhi e vabbè. È in modalità medicina l'ostrica praticamente. No, a me non fanno fatti, però quello è in tempura e devo dire che in tempura è molto buona. Tutta in tempura è molto buona, ma va pure il passacenere. Scusate, easy mode, cioè... Quindi esiste l'ostrica in tempura? Sì, quella è tanta roba, tanta roba. Ma secondo me forse quella è l'eccezione del fritto, secondo me. È l'unica cosa che è fritta, non è manco fritta. Ma lei è sognata fritta, perché fritta è stempera molto. Non è così. No, sono talmente sconcertato dalla sua forma naturale. Scusa Lore, ma che rimane di fritto poi con l'ostrica in tempura, scusami? Non si squaglia? No, no, no. Le cose sono buonissime, a me piacciono tanto. Ma voi l'avete mai aperta? No. Non lo fate. Non lo fate. Figliatela e manciatela. È buona così la cozza. Non andate a fare l'allegro chirurgo. Ma vabbè, c'è il filetto, c'è quella stifezza che va tolta, no? Ci sono gli organetti dentro. Non lui dice proprio aprire la... Proprio visionare l'interno della cozza. Comunque, Valide, io veramente, allora, gatti tirati... Cozze vivisezionate. Cioè, io non lo so. Cioè, veramente, gatti. Vabbè, ma l'ostrica, cioè, è normale, gà, vungola. Era un bambino vivace. Ci arriva con la mascherina... Bello! Va bene, quindi la cosa più disgustosa per Davide è l'ostrica. Lorenzo, qual è la tua cosa più disgustosa? Però sapete che non mi viene in mente niente? Perché io sono sempre stato molto... Da piccolo... No, molto, abbastanza schizzinoso. Quindi se c'era qualcosa che non mi convinceva, non la mangiavo. Cioè, anche adesso, nel senso... No, scialla... Mi piace più o meno tutto, però cose strane strane. C'è tipo il cervello anche. Non mi è mai venuta la voglia di provarlo. Il bollito. Il bello fritto è buono. Buono il cervello. Eh, me lo hanno detto. Anche mamma piace da... Le lumache. L'animello. Le tifosette. L'animello da così. Le rane. Mai provate anche quelle. Non lo so. Sono buone quelle. Meglio così, secondo me. Allora, no. Una cosa che mi fa un po' strano... Che ho provato... Non sono cattive, però mi ha fatto un po' strano... Quando le ho mangiate... Così. Le capesante... Senza niente. Senza niente. Neanche un pizzico di limone, un pizzico di soia... Qualunque cosa. Proprio così. Crude. Però... Cioè, scottate. No, crude. Quelle un po' stranine, per i miei gusti. Ma che sono le capesante? Sono delle... Molluscoli. Cioè, delle molluschi giganti. Sei quelle che ti danno nella conchigliona? Quelle che fanno... Ma è uno stricone. È uno stricone. Sembrano... Il marshmallow del mare. Esatto, sembrano tipo di marshmallow. Tipo di marshmallow, sembra. A vederli. Navide non è contento. Però, però, quelle lì, le fa Gordon Ramsay, scottate. No. Sembrano buonissime. Sembrano. Sembrano. Non ho mai assaggiato. Non voglio... Ok, la capasanta cruda. Io ne amo la follia. Le capesante. Insomma... Andiamo... Sì. Andiamo tutti a mangiare le capesante in un posto che le fa buone. Così mi ricredo. Io ci sto. Non lo so. Non mi ispirano le capesante. Vaga Luciano. E se tu sei tesoriere. Giulia, qual è la cosa che... Ho risotto capesante a grumi. Ah, bello. Non lo mangeremo mai. Io e il manno, invece, se ne andiamo a mangiare i castelli. Bravo, bravo. Eh, no, no. Mentre... Sì, è un posto anche dei primi buonissimi. Bravo. Va bene, va bene. A parte le capesante. A parte le capesante. Capesante, ostri che ricco. Fettuccine le capesante. Fettuccine. Va bene. Giulia. Che dicevi Giulia? Io odio la trippa. La trippa? Ok. Ma fatta in qualsiasi modo? Non ti piace? No. Proprio... Non mi detesto la consistenza. Fritta? Fritta non l'ho mai provato. Anche io, ma... E l'uomo con la trippa? Fritta tutto. L'uomo con la trippa mi piace. Beh, intenditrice. Luciano prende appunto. Intenditrice. Qua ci hanno già segnato. Scusate, ma... Basta, basta con questi quadratini. Sono d'accordo, sono d'accordo. Viva le maniglie dell'amore. Viva le maniglie e le ciambelle. Ecco. Viva le maniglie. Ma poi perché, di là, cioè, nel senso, mo se stiamo su sto discorso, è chiaro che se me si presenta Ryan Reynolds o che cazzo ne so... O Godling. Io sono più Ryan Reynolds. Eh beh. Vabbè, Ryan Gosling, due testate, se ne mediterebbe. Ma... Eh, capisci? Non lo so. Non lo so. Ma tipo Chris Evans? Chris Evans? Chris Evans è un bel ragazzo. Beh. Beh. Io lo dico. Appunto, no, no. Non è questo il mio numero. Mi sembra giusto. Vabbè, o, Giron Jostra se nega così, voglio dire, no? Dai. Cioè, ci pensi un attimo, sai, voglio dire, una pizza, un caffè, vediamo che succede. Io abito qua sopra, no? Sì. Sono d'accordo. Vabbè, ricordiamo pure che Giulia, nella puntata precedente, quando si parlava dell'isola deserta, ora, ricorda tu, se vuoi citare te stessa... No, ti prego, no, ti prego, vai avanti. Su un'isola deserta io mi scopo anche un ananas. Testuali parole, vero. Dopo tre giorni. Dopo tre giorni, scusate, ma no, volevo... Dopo tre giorni, allora. È vero, e quindi ero presente. Vabbè, potevano essere due, scusa, eh. Cosa? Potevano essere due giorni, non due ananas. No, due ananas. Ma io sono... Dopo due giorni. Dopo due giorni. Lo so, ragazzi, sono una persona pratica. Giusto. No, ma io sono... Poi magari non è che gliela davo subito dopo tre giorni, però sicuramente... All'ananas o a Chris Evans? No. All'ananas. E si tratta di un minuto. Il mio primo è come dell'ananas. Sì, quindi magari, cioè, però, avrei comunque dopo tre giorni cominciato a tentare un approccio. Con l'ananas. Esatto. Io mi immagino l'ananas con gli occhi tipo Wilson. Sì. L'ananas. Cosa vuole... Facciamo la città. Hashtag giulanas. 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 Bello. Bello. Ok, quindi ci fa schifo. L'ostrica. La trippa. Le capesante. Adesso arriva Simone. Tocca a me, forse. Spero che non ci sia nessun toscano all'ascolto, però quando assaggiai il lampredotto, prima botta mi piaceva. Ho preso un panino intero e non ce l'ho fatta, perché comunque la consistenza... Sai che non lo so effettivamente se è trippa il lampredotto. Comunque è qualcosa di interno ed è molto, molto gommoso. Insomma, non... L'ampredotto, forse. E quindi l'hai sprecato. Fa parte della famiglia della trippa. Un po' sì. Un po' sì. Se si sente un toscano... L'han sprecato. Eh, ma i toscani hanno devastato questo paese. Sì. Passa zitto. Va bene, il lampredotto. Io avevo... Non si vede le pietre dalla Toscana. Io avevo paura che difessi vivo... Grandi problemi di consistenza, più che... Sì, la consistenza, esatto. Sì, sì, è la consistenza. E anche il sapore di mare, però, che a me non piace il sapore di mare. Sì, è vero, c'è ragione. Va bene, va bene. Willo, cos'è che ti fa schifo? A parte Luciano. No. Willo, non capisci niente se ti fa schifo Luciano, scusami. No, infatti ho detto, no, no. Porastella pure, insomma. Porastella è ancora più offensivo di... Mi fa schifo. Mi sono affrezzonata a Luciano. Luciano, ti ha affrezzonato. Oh, è pesante. Porastella è pesante, sì. No, io in realtà, allora, tutto quello che mi fa schifo non lo mangio, però una cosa che ho mangiato, perché ho rimosso la piccola, esatto, era cervello e pesca. Cervello e pesca? Insieme? Cervello e pesca insieme, perché mia madre mi metteva la pesca davanti, dietro c'era il pezzetto di cervello e infornava e io, giustamente, piccola, percepivo la pesca, gnamme, poi dopo c'erano tutti i problemi, tipo, sai, quando hai da mano alla pillola al cane, no? Quindi c'ero io che cercavo di scudarla e mia madre che cercava di farmelo ingoiare, quindi quella è stata la cosa più... Perché avresti dovuto mangiare per forza il cervello, scusami, perché questa comunque è una violenza fisica, come se dovessi crescere a pane e cervello? Esatto, perché pareva, c'erano sti viti, no, che faceva bene, potente... Ah, spanchi, allora abbiamo capito tutto di quello che mi ha dato. Io mangio cervello fritto. Ma non nell'infanzia? Non è l'infanzia, evidentemente. È caduta dalla sedia da piccola, in realtà. Eh, trova un'altra spiegazione, perché questa no. Comunque, cervello e pesca, che abbinamento strano. Ma credo che, insomma... Farebbe schifo un po' a tutti i cervelli. Farebbe schifo a chiunque. Spanchi. Sì, a me non piacciono poche cose, sono la Coca-Cola, il fegato e le fragole con la panna. No, sei da crimine. Fragole e cioccolato, sì, fragole e yogurt, biscotti. E yogurt? Che cos'è un yogurt? No, dico, è yogurt e biscotti. È un yogurt e biscotti. Ah, ok. E la Pepsi? No, no. E la Pepsi senza? Ma tipo le altre cose. E per cui a me piace la Coca? E la Pepsi Boom? La Fanta e l'oranzoda, basta. Ma non è che non le ordinerai mai. E la Sprite? No, non solo quelle. La Sprite ti piace? Sprite? La 7-Up? La 7-Up? Stavo per dire io, bravo! Non lo so, non mi ricordo. È tipo una Sprite la 7-Up. No. Non è tipo una Sprite. La cedrata? Sì, eh. Senti, ton sì. La cedrata? Ciao. È della famiglia. No, io la 7-Up non l'ho bevuta una vita, però non è tipo la Sprite. Sì, è tipo la Sprite. Sì, è molto meglio della Sprite. E tu immagino la Sprite è molto meglio. È tipo la Sprite. La 7-Up non l'ho assaggiata, allora. Non lo so. Va bene. Io vado ad acqua, acqua frizzantissima. E basta. Buono. Sì, è super frizzante. Ma lei l'aranciata l'aveva pagata. Vabbè, scusate. Allora. Andrea è troppo giovane. No, io mi trattengo le risate, però non l'ho buttata fuori io. Ho le mani in alto. Andrea, sei una brutta persona. Mani in alto, Andrea. Hai buttato fuori spanchi. Eccomi qui. Con il comando vocale. Non ha seguito la citazione, quindi ha buttato fuori. No, io mi trattengo le risate per dopo. Perdono. Però dopo riderò un sacco, capito? Ti perdono. Bene, bene. Andiamo avanti, Andrea. Sì, allora, io... Sentiamo. Sostanzialmente c'ho delle cose che non mi piacciono proprio visivamente. Le ho assaggiate e hanno confermato la mia sensazione del... No. Scusate. Tra questi ci sono i Persebes, che sono dei crostacei molto particolari e brutti. Quando li ho assaggiati ho detto, ok, siete brutti e non buoni. Persebes. Persebes. Se volete vi faccio vedere una foto. Lì cerco. Sì. Persebes. Ok, ve la condivido qui. Sono rossicci, può essere. Mentre lui condivide i Persebes, io volevo aggiungere che alle cose che non mi piacciono per niente assolutamente, io ho quattro elementi che non mangio mai, che sono l'aglio, il cetriolo, il cocomero e il melone. Ma dai! Il cocomero e il melone. Ma il cetriolo lo amo. Il cetriolo un po' ti capisco. L'aglio mi piace. Fanno schifo. Ma sono degli alieni. Ma l'aglio è ben dosato. E come si mangiano questi, Andrea? Indovina. Col cu... Eh, te magari sì. Io no. Justamente. Avete fatto strozzare Davide, che brutte persone che siete. Luciano, te sei una buona forchetta perché insomma ti vediamo sempre nella movita sarda. Allora, no scherzo. Miele? Non ti piace il miele. Vabbè, vabbè, c'è. Io vivo di miele, come è possibile. Sfifo, però, adoro. Il miele. Il formaggio sardo con i vermi? No! Non l'ho mai saggiato. Ma i vermi dentro sono vivi? È partito presto. No! Lo fai tu, tipo, no? Ma i vermi sono vivi dentro il formaggio sardo? Sì, si ascoltano anche. Eh, certo. Non possono... Che cosa schifo. Non possono farlo, in teoria, con i vermi morti, no? No, perché loro nascono da lì. Cioè, dobbiamo fermare da dentro... Deve essere mangiato con i vermi vivi. Ragazzi, soprattutto quando fate una tirata unica verso le tre e mezza, quattro e mattina, è poesia. Una cosa... Però, beh, no. Però, scusa, adesso sono curioso. Perché sono larve del formaggio, quindi nascono. Eh, quindi tutti... Nascono, crescono e vengono mangiate. Esatto. Ma non vengono mangiate col formaggio? Sì. Ci stanno vivi, ma... Ci stanno vivi, ma sono tolte! No, no! Sono parte della... Un po' ti mando a TikTok, di uno che ha fatto l'assaggio. Allora, a molti piace. Sono proteine. A me non piace. A te no. Eh, vabbè, dai. Ci sta. Bear Grylls insegna. Sardegna come Bangkok, veramente. Stiamo a quei livelli. Allora. Tutte le cose... Tutte le cose... Non si mangiano la mosca, penso, su proteine. E gli scorpioni? Dai! No, tu... L'hai distrutta con un po' di... Però non l'hai distrutta con un po' di filta. Oddio, oddio. Va bene, va bene. Io non ho un piatto, io ho un'erba, quella che io chiamo l'erbetta, il prezzemolo. Mi fa schifo qualsiasi cosa che ho sopra il prezzemolo, io vomito. Se dovesse esserci anche un piccolissimo pezzo di prezzemolo, non riesco a... Cioè, quindi tutte le paste di mare, praticamente non... Sì, dico, me la prendo e dico senza prezzemolo. No, e dici senza prezzemolo e te la fanno tanto. Ah, vabbè, ci sta quella cosa. Eh, vabbè. Eh, vabbè, allora, magna del formaggio Givermi, che bordie, ce sta. Me fa schifo, come a te te fa schifo il formaggio. Io mi ricordo Mauro, che guarda con schifo i miei chiosa a Cerea, perché ci hanno messo sopra il prezzemolo. Lui che li guarda e fa... Non ne prenderò uno. E se ne va, così, basta. Che schifo il prezzemolo. Quindi quando non vuoi farti mangiare qualcosa dal man, basta che ci metti una foglia del prezzemolo sopra. Sì, peccato che, insomma, il prezzemolo non è che sia... Sta ovunque. Ha bontà divina. Oh, Dio, secondo me sì. Bontà divina, anche no. Anche sui divoli. Una spaluzzatina, sì. Ma a me non viene in mente il sapore del prezzemolo. Uno schifo. Che è un sapore di contorno, no? Non è vero. Per il soffritto, io il prezzemolo col soffritto lo immagino. Assolutamente. Non per altro, cioè non per condire... Eh, perché esatto. Il prezzemolo viene in mente, il coriandolo viene in mente. L'origano viene in mente. Sì, a voglia. Il prezzemolo non ce l'ha detto. Posso dire una cosa, però non è vero che è di contorno, perché quello che... Dove tu metti il prezzemolo viene rovinato anche dall'odore del prezzemolo. Cioè, il prezzemolo è molto forte, non è un qualcosa che sta lì. È una guarnitura. Per lui è veramente acerrimone mio. No, è come mia madre col tartufo, regà. Mia madre col tartufo, lo puoi sentire. Se lo senti in un supermercato e sente l'odore del tartufo, deve uscire quasi. Cioè, sta proprio... Sono d'accordissimo. A me piace il tartufo. Sono assolutamente d'accordo. Io lo amo, regà. Secondo me, è sopravvalutato. Per 25 anni... No, 24, perché l'ho scoperto l'anno scorso? Sì. Per 24 anni l'ho mangiato una volta in un ristorante e sono in un solito... Oh mio Dio, che cos'è questa cosa? Cioè, sono assolutamente... Le staglie di tartufo sull'uovo all'occhio di cuore. Ma sulla pasta... La carbonara tartufata. Pure così, calcolate. No, oh, Luciano! Non diciamo cazzate! Ma adesso le besti... La carbonara tartufata... La carbonara tartufata ha detto. Una cosa scena. Man, allora tu non puoi andare a Gardaland. Questa non lo so se la capisco. L'ho capito. Ah, è vero, Simone! Non lavori collegato. Io ti ho preso a Gardaland. Immagino, tipo lui a Gardaland, vede, prezzemolo, gli trae un pugno in pasta. A tacco di pari. A tacco di pari. Potrebbe accadere. Potrebbe accadere. Hai un amore forsissimo! Rovini sempre tutto. Mi hai rovinato le quagia. Ma è colpa della mia tiroide. Ma ragazzi, ma... Va bene, va bene. Ha creato, ha creato tipo alleanze e litigioni. Allora, Andrea Avanti. Andrea Avanti con la seconda domanda di Mr. Lannister. Buonasera al grandissimo meno a tutti i ragazzi. La domanda che vorrei porvi è... Potete raccontarci la vostra figuraccia piesilarante? Anche questa non l'avevamo già trattata. Ah, però io... Aspetta, aspetta. Non è una nuova file. Hai cambiato. Non è una nuova. Ne abbiamo parlato. Io non ne ho una nuova. Perché poi durante le puntate magari tu hai delle cose che non ti vengono in mente in diretta. Poi ci ripensi. Io a distanza di mesi ho pensato... Minchia, ma se io avessi raccontato quella storia, quella sarebbe stata la storia. Quindi ce l'ho. Oh, allora se ne parliamo. Va bene. Però dopo un'introduzione del genere deve essere tipo epica. Cioè noi ci aspettiamo grandi cose. Ma ragazzi, ha a che fare con me con un elicottero? Bello. Quel tipo di elicottero? Con l'elicottero. No! Siamo all'ascolto. Sì, vado. Hai catturato la nostra attenzione. Ho catturato la nostra attenzione. Etna Comics non mi ricordo di quale anno. Comunque io ed Emanuele Gizzi, un disegnatore nonché mio grandissimo amico fraterno, prendiamo questa stanza in un bed and breakfast. E la prima cosa che fanno due uomini quando entrano in una stanza d'albergo cos'è? Ragazzi, io ho fatto l'elicottero con Emanuele, così facevamo l'elicottero davanti allo specchio. L'elicottero per chi non sapesse all'ascolto che cos'è, praticamente con la minchia fai questo motore. È rotatorio. È rotatorio. Nello stesso momento in cui io ed Emanuele stavamo roteando. Ragazzi, è successo. Nello stesso momento in cui entra la ragazza che, insomma la ragazza è la proprietaria, ora non mi ricordo, la receptionist qualcuno, asiatica, questa cosa non c'entra niente, però entra, perché ci chiede. Anche sono importanti. Tu volevi che noi la vedessimo poterle aggirare meglio. Lei entrò per chiederci, ragazzi, ma volete che i letti ve li divida, ve li se fai oppure ve li lascia? E dovete vedere, lei che aveva comunque questo vento in faccia perché, giustamente, le pale erano attive in quel momento. Io da persona comunque strutturata le dissi, no, non c'è bisogno. Emanuele è pavido e via, Cole disse sì, per piacere, grazie. Quindi niente, così. Quindi è rimasto anche per roteare le vostre cose e lei ha separato i letti. Lei ha separato i letti perché poi Emanuele si è vergognato e quindi ha preferito che lei non fraintendesse chissà che cosa. Figurati, però, insomma. No, ma la domanda è, li ha separati in quel momento? No, 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 no. Perché è entrata, chiaramente, è entrata ed è uscita subito. Non era chiara questa cosa. Questa ragazza entra, vede due persone che sono appena arrivati, hanno già i pisellini di fuori che stanno roterando, peraltro. Ah, perché c'era un grande specchio davanti a noi, per questo motivo. No, chiaro. Sì, 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 sì. Ha tutto più senso adesso. Ecco, la specchia. Questa è una delle storie più imbarazzanti, ma divertenti allo stesso momento che mi siamo mai avanti. Sì, beh, l'elicottero si fa sempre davanti a uno specchio, quasi non ha senso. Certo, certo, ragazzi. Ma l'elicottero va fatto davanti ad una persona. L'elicottero lo puoi fare ovunque e quando vuoi. Non lo faccio adesso, però vi motivi. Però... Fidatemi. Lo puoi fare ovunque e quando vuoi. Adesso tutti noi... Fidatemi schialdi vuoi. Fidatemi schialdi, bannati. Perché? Ma perché? Però posso dire... Ma adesso... Adesso lo farò pure io. Ogni volta che entrerò in una stanza farò un elicottero. In onore di Simone. Ma non possiamo stocanare questa cosa dell'elicotterino. Salutiamoci con l'elicottero. Simone, lo faremo tutti in tuo onore. Ma vi ringrazio, per piacere. Grazie. Faccio un appello. Se avessi il bene lo farei anch'io per te. Giulia, grazie. Al nome di tutte le... Questa è solidarietà. Al nome di tutte le ananas di questo mondo. Mamma mia. Quanto vorrei essere stato la signora asiatica per capire in quel momento... No, non fraintende. Da dove? Per capire in quel momento cosa ha pensato. Mamma mia che brutte persone subito a fraintendere. Cioè... No, c'è stata la ciocca di capelli che le ha fatto così. Un piccolo vento. Io voglio che voi visualizziate. Sì, sì. Sì, sì, ma... È come essere là. Il suo disagio. Non la vedo, brava. Un'immagine che non cancelleremo mai dalla... Ci è sembrato di essere lì con te. Oh, bene. Ho fatto il mio lavoro. Ragazzi, vado, ragazzi. Io voglio che domani... Io voglio che domani... Voglio che domani esca almeno un meme con Simone e l'elicottero. Inventate quello che vi pare, però uno con Simone e l'elicottero. Vi prego, taggatevi. Lo voglio vedere subito. E tu sarai la biblia asiatica. La biblia asiatica. La signora asiatica. Dopo questa che dovemo dissi, Simone? Ormai qualunque cosa... Questa è stata la mia seconda possibilità della vita e me la sono dovuta giocare. Mi hai vinto. Ce l'hai uccise. Sì, credo. Neanche se adesso raccontassi che avevo i pantaloni bianchi e mi sono cagata addosso quando ho vinto l'Oscar. Potrebbe essere davvero affinabile a questo, credo. Non è successo. Non ho ancora vinto l'Oscar. È vero. Ci stiamo lavorando. I vazzanicchi. O i vazzanicchi. Pietro al divano. Esatto. No, aspetta, che ora c'è Luciano che ti dice che era tutto studiato. Sì, esatto. Vai, Luciano, diccelo. Ma ne abbiamo parlato. Ne abbiamo già parlato. Ma qualcuno, io mi ho aspettato una cosa del tipo, ora quella cameriera è diventata mia moglie. Sarebbe stato un gran bel finale questo. Ora quella cameriera è diventata mia moglie. Amore, vieni qua, dove sei? Sto facendo i ravioli. Sto scherzando, mi dissocio, mi dissocio da... Sì, tranquillamente. Non ho detto niente. Assolutamente. Tu non ho deciso come... Diciamo il meglio il meglio. Ma te cazzi, te schiazzi, fai tu così, che tu ti offende se sto periodo... Tutti fragili, davvisamente. Raga, chi vuole essere lo sfidante che prova a spodestare il campione? Io non mi credo. Come fai? Qualsiasi altra cosa. Cioè io gli darei di diritto proprio la corona di... A cavolino. Besta risposta a questa domanda e basta. Lasciamo il podio a re. Lasciamo il podio a re. Il podio è tutto. Il podio, cioè lui ha preso il punto del primo, il secondo e il terzo. Posso dire una cosa? Certo. Me lo merito. Grazie. È vero. E farlo partire questo cazzo di applauso. È partito, è partito, ecco qua. Il problema è che esce Obama che dà la metà. Date una medaglia a quell'uomo. Vabbè, allora andiamo alla prossima domanda perché questa ce l'ha uccisa. Ti faccio un collegamento top. Faccio sto collegamento. Ma la medaglia... L'ho detto la stessa cosa. Ma la medaglia dove gliela metti? Ma la medaglia l'ha fatta girare. No, no, no. Aspetta. Prima della fine del primetime. Sì, sì. Vai, Lucia, vai. Che stai dicendo? Perché, Andrea, che cade magari in un palco o magari in un backstage... Sì, è tutto tuo da stessa. ...che accadrà tra qualche giorno. Ecco il collegamento, Mauro. Oh, Dio! Ah, se io dovessi cadere... No, vabbè, ma quello non può accadere. Non può accadere, non può accadere perché noi siamo professionali e queste cose non le facciamo, vero? Noi non cadiamo dai palchi. Mi sembra giusto. Solo alle scale. Solo alle scale. Allora. Però, beh, niente a che vedevo l'elicottero davanti al proprietario di un bianco. L'elicottero. Erano le scale a chiocciola, un deja vu. Non mi rinno, era lui che cadeva davanti a tipo 40 persone del coro di Dodo Persino. Cioè, era una cosa del genere. No! Figura di merda! Sì. Le proporzioni... Però... No, è venuto il deja vu di quando lo avevi portato tipo... No, ma quello era Luciano. Mi sa che lo avevi portato un bianco perché... Ah, sì, sì, sì. Quello era Luciano. L'abbiamo riportato a casa, sì. Abbiamo rischiato la morte quel giorno. Origami all'alba ci chiede, potete raccontarci di una giornata incredibilmente fortunata ma che avete avuto... Ah, no, ma che... Scusate, ragazzi, stasera non so leggere. Potete raccontarci di una giornata incredibilmente fortunata che avete avuto e anche di una in cui niente è andato come speravate. Quindi ci stai chiedendo la giornata più fortunata e più sfigata che abbiamo avuto. E' tosta la giornata più fortunata. Oddio. Ci dobbiamo pensare che questa è... Tosta. In realtà così su due piedi vale quando ho vinto tipo 500 euro al gratta e vinci. Beh, devo dire... Stiamo parlando di... Non stiamo parlando della giornata più bella, stiamo parlando della giornata più fortunata. Più fortunata. Cioè, magari è stata una giornata de merda, però se è successa una serie di cose fighe. Esatto, esatto. Che è Wes Anderson, subito. Beh, ragazzi, fortunata quando ho beccato... Scusatemi se prendo di nuovo la parola, ma dopo che ce l'ho... Vai, 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 sei un uomo. Così ci dai tempo di pensare. Quando, per caso, Milaus, il cane che adesso tuttora è con me, lo incontrai per strada che è stata per essere stirato dalle macchine. Quindi, l'ho fortunata per entrambi fondamentalmente, sia per me che per lui. Quindi, per me questa può essere una delle vite, delle giornate più fortunate in assoluto. È una cosa bella che hai detto. Mi dovevo bilanciare, cara. E' anche un cuore dietro l'elicottero. Sì, sì. O dentro un elicottero. Cos'è che muove quell'elicottero? È il suo cuore. È vero. Ah, ok, perché pensavo volessi sapere fisicamente, ti spiego se vuoi. Improvvisamente anatomia. No, comunque, a proposito. L'elicottero o di... No, sì, parzialmente, perché sono andato dall'urologo tempo fa. Ah, ok. E ti ha fatto l'elicottero? Potrei dire. Che hai chiesto? L'hai fatto tu a lui? No, no, no. Poi, tra l'altro, anche senza avvertirmi. Ah, dai. Così, a sorpresa. Questa non gliela perdonerò, eh, perché non si frega la gente così. No. Almeno un bacino primo, una carezza, un avverdimento, qualche cosa. Una coccola, una cosa. Prendi e parti. Dico un minimo, non pretendevo tanto. Mi ha spiegato come funziona... Come funziona. Cioè? Ed è... La stimolazione. Ah. La stimolazione prostatica. Il fatto che... L'erezione. L'erezione. Ma l'erezione dal senso. Ragazzi, cioè, spiegata da lui, è davvero una cosa ultra scientifica, ma è praticamente l'equivalente di un miracolo ogni volta che succede. C'è uno scontro di ormoni, di chimica, di muscolatura, di quello, di vasi sanguigni, di tutto. Non potete immaginare che cos'è. Eppure per noi è una cosa abbastanza semplice, ma vi assicuro che spiegato da un medico professionista, nel dettaglio, è tipo un miracolo ogni volta. È qualcosa di pazzesco. Pazzesco, pazzesco. E tu non puoi... E poi mi ricordo una scelta. Riesci a farci stare un po' in questo... Pensa durante l'erezione quanti cazzi ciappa la testa lui. Uh! Le mani! Mi ricordo, Mauro. Cioè, vi dico solamente che la pressione, la pressione che sta all'interno del pene, no, pene, come si dice? Pene. Pisello. Pisello. All'interno del pisello, in erezione, è di gran lunga superiore a quella che sta dentro le ruote delle macchine, per farvi rendere conto. Hai capito che arma che abbiamo, sì. Hai capito? Oh, Mauro, hai capito perché... Hai capito perché Luciano gli è da Gorrino a Fanali? E come no? Ci abbiamo una bella... No, comunque io mi ricordo di una scena di un film con Woody Allen, dove c'è lui... Che sono tanti piccoli spermato Zoi. Sì, sì, che tu devi fare... Dai ragazzi! Bellissimo. Anche su Senti che parla. Senti che parla. Va bene, adesso sto pensando... È vero. Ogni volta che penserò al pene, penserò a te che dici è poesia. Sappilo, Davide. È un miracolo! No, no, ha detto proprio è poesia. In un certo momento ha detto proprio è una poesia. Sì, ma perché è qualcosa di incredibile. Io non pensavo che fosse così complicata la cosa, ma è davvero pazzesco il sistema. Il marchi ingegno che c'è dietro è una cosa fuori di testa. È poeticamente complicato e incredibilmente tecnico. Mi stupì, mi stupì davvero molto. Insomma, mi è rimasti davvero colpito da questa cosa. Io durante la mia prossima erezione, il rapporto sessuale, dirò alla fortunata... È un miracolo! ...che mi ha raccontato il doppiatore di Padron Frodo. Tra le tante cose... Puoi sapere una storia assurda? Ma guarda che potrebbe far colpo, secondo me, come cosa. Sì, beh, certo, è un gancio pazzesco, eh. È un gancio assurdo, perché tu dici, che cosa mi ha raccontato? Gli sciovini, tutta la cosa. Dice, vogliamo provare quest'incredibile espressione della scienza e della fisica. Sì, ma là io alzo troppo le aspettative e non è il mio caso. Meglio mantenere un po'... Il basso profilo. Il basso profilo. Quindi la tua giornata più fortunata è stata quando sei andato dall'urologo e ti ha spiegato che meraviglia è l'erezione. Questo ci stai dicendo, giusto? No, non lo volevo interdire nelle giornate più fortunate, però diciamo che in quel momento ha bilanciato, ecco, l'attimo precedente. Ok, quindi è stata la tua giornata più fortunata e più sfortunata insieme. Va bene. Qualcuno nel frattempo ha pensato al suo giornata? Io ce l'ho. Ce l'hai, fantastico. Mi ha fortunata e sfortunata, ma sono molto superficiali, molto semplici, molto scialle, niente di... E' grande. Allora, quella fortunata... Io ero andato a Londra, a Shordich, mi sembra, un quartiere che si chiama Shordich. Mi sta cadendo il computer. E eravamo andati, io e una mia amica, a questo negozietto pop-up store dei Bastille, che è un gruppo che seguivo tanto all'epoca. Parliamo di cinque anni fa, sei anni fa, non lo so. E quindi, niente, volevamo andare lì perché era carina questa cosa, l'idea che aprissero il negozio per un giorno col merch. Sì. Quindi ci sono detto, vabbè, dai, andiamo lì. Poi era carina, l'hanno organizzata tutta tipo caccia al tesoro, cioè non hanno detto la posizione, hanno fatto tipo... Hanno mandato dei tweet dove dovevi andare a cercare i post, tipo dei fogli, e i fogli ti dicevano alla fine dove era questo pop-up store. Quindi era comunque una cosa divertente, carina. Fatto sta che, niente, andiamo lì. Io e questa mia amica, quando stiamo insieme, ci abbiamo... Non so perché, diciamo, nella vita ci abbiamo sfiga per tante cose, anche situazioni amorose. Cioè, però per queste cose, quando dobbiamo magari... C'è un cantante che ci piace, qualunque cosa, abbiamo una fortuna assurda, magari incontriamo le persone così a buffo. Sì. E insieme questa cosa si amplifica. Che è successo? Siamo andati lì a prendere delle cose del merch, e c'erano i bastigli in realtà nel negozio, e ci siamo fatti la foto, e quindi siamo stati contenti, ma questi super carini, con la Polaroid, siamo stati lì a parlare un botto perché eravamo in tipo 15. Fatto sta che, praticamente, è stato molto divertente quello che è successo dopo, perché lì vicino c'era una libreria, tipo Feltrinelli, non mi ricordo che libreria era, e vediamo, Shawn Mendes che fa jogging a Londra. Shawn Mendes? No! Io non lo so, lei è tipo il suo cantante preferito, e tipo, mi ricordo che aveva passato poi delle giornate un po' strane, un po' sfigatelle, quindi, tipo, mi guarda e dice, ma c'è Shawn Mendes che sta facendo jogging? E lui praticamente viene verso noi e fa, oh ciao, perché ha riconosciuto lei, perché l'aveva vista non so quanti mesi fa, e quindi lui tranquillo, oh sì, facciamoci una foto, io non l'avevo mai sentito, se non in qualche Vine, mi sono ritornato sta foto con lui e dicevo, vabbè, ok. Quindi tu hai la foto con Shawn Mendes? Ma fa ridere questa cosa, perché lui non è, non è, non è inglese, non è di Londra, stava lì a caso perché doveva fare una cosa, doveva stare lì due giorni, ed è capitato a fare jogging davanti al pop-up store dei Bastille. Quindi, questa è la cosa, diciamo, pazzesco. Sì, no, è stata una coincidenza pazzesca e lei, tipo, è rimasta asciocata e dice, no, oddio, ma perché quando stiamo insieme che succedono queste cose? Ma pazzesco anche che l'abbia riconosciuta. Sì, perché l'aveva vista, l'aveva vista più volte comunque perché lei andava spesso ai suoi concerti e stava in prima fila. Ok, ma non è scontato. Ma sai quante persone vede quel ragazzo? Non è scontato, è vero, ma io, per dire anche di Bastille, quando mi ricordo una volta che stavamo a Praga, in fila, tipo dalle luna di pomeriggio, niente di esagerato, dall'una di pomeriggio e loro passano e ci prendono la pizza. Cioè, ci hanno riconosciuto e hanno detto, oh, ragazzi, state qui. Vabbè, ma le avevamo visti tante volte, effettivamente, ci avevamo proprio chiacchierato. Poi comunque io pure, per come so fatto io, forse perché sono cresciuto in questo ambiente, non è che ho mai idolatrato le persone. Cioè, se c'è uno che stimo ci parlo, non è che mi metto a fare, facciamo i selfie, ok, grazie, ciao. E me ne vado, non li tratto come oggetti. Però sì, sicuramente non era scontato. Vabbè, e la giornata sfigata, una cosa molto stupida, però mi ha dato molto fastidio. Mi ricordo, ho passato, tipo, un giorno e mezzo a fare un benedetto minigioco su Final Fantasy X. Non so se qualcuno di voi ci ha giocato a Final Fantasy X. Nessuno? Ok, qualcuno della chat può sapere. quel benedetto minigioco dei Chocobo, della corsa di Chocobo. Praticamente era una cosa dovevi fare questo percorso, però era tipo, i controlli erano poco stabili. Cioè, appena giravi un pochino, girava di tantissimo questo animale su cui stavi, tipo un cavallo, una gallina gigante, praticamente, che cavalcavi tipo cavallo. Ed era un gioco per prendere un'arma, una delle ultime armi del gioco. Che è successo? Dopo essere riuscito, dopo un giorno e mezzo, a fare questo benedetto livello del cavolo, praticamente, stavo per salvare, e salta la luce. E quindi io, solito, io, e ora vado a incendere, così, e dico, ma non... Ovviamente non c'erano i salvataggi automatici, c'era il salvataggio manuale, perché era un gioco vecchio. E quindi niente. Poi alla fine ho detto, ok, basta, cambio gioco. E poi però, dopo qualche mese, l'ho rifatto e ci sono riuscito abbastanza velocemente. Ma avevi perso tu? No, avevi perso... Quel giorno e mezzo. La cata? Sì, cioè, tutta quella cosa che ho fatto, l'ho persa, l'ho buttata. E quindi stavo così, dico no. Si vede che non era il momento giusto per voi. Eh, ho capito. Per me, per il ciocobo, per la playstation. Ok. O per te la luce, non lo so, insomma, però non era il momento. Niente, questo, insomma, per te la luce. Figo, figo. Giulia? Io? Sì. Allora, la giornata più fortunata che ho avuto, avevo 18 anni, avevo appena donato il sangue, mi hanno richiamato dall'ospedale perché c'era un valore strano, e non mollo la bomba epodico, e mi hanno diagnosticato il cancro. E quindi io sono qua, perché ho avuto questa botta di culo a dono. Cavolo, cavolo. A 18 anni? A 18 anni, sì. Pensa, se non avessi fatto poi quell'esame, che non avessi donato il sangue, cosa è questa? Esatto. Cazzo. Cavolo. Cioè, se penso la giornata più fortunata, sì, è quando, insomma, ho detto not today alla morte per la prima volta. Cavolo, cavolo. Ti puoi immaginare pure, preso in tempissimo così, poi oltretutto. No, infatti. No, perché era totalmente asintomatico, 15 centimetri per 17 al sistema linfatico sopra un polmone. In realtà stavo morendo e non lo sapevo. Ah, mamma mia. Cioè, ti rendi conto che una bestia del genere era asintomatico? 15 centimetri per 17, ragà, una cosa... Un pallone, per dire. E non dava sintomi. Vedi, poi ce so io che ho un lievissimo mal di testa e penso che sto... Morire. Esatto. È vero, è vero. E no, perché quando ho incontrato dei cantanti... Ma ragazzi, è diventata una gara questa sera oppure che cosa sta succedendo? Io ci posso scherzare perché l'ho avuto, ci posso scherzare. Il Fight Club è diventato questo. Certo. No, cioè, tu puoi scherzare su quello che... No? Certo. Ragazzi, non si tratta. Dicci altro! Boh! Boh. Boh. Meno male. Meno male. Quindi questa è la tua più fortunata, direi. È la tua più sfortunata? La più sfortunata ce n'è a fottere. Cioè, ce n'è veramente, veramente tante. Veramente tante. Cioè, quando ho deciso di rispondere a un tizio che mi rompeva un po' le palle, ho fatto Vaggine Rude a Roma a Siena e poi c'aveva... La sindrome di Simone, come ha detto lui, eh? L'hai detto te? Aspetta, no, no, non facciamo un cilocchio. L'hai detto tu, eh? Io sto solamente... Io non lo volevo dire. Che non è necessario avere un grande... Cioè, probabilmente l'amico tuo non avrebbe potuto fare l'elicottero. Io c'ho un normale, comunque. Oh, che normo dotato. Giuro che c'ho un normale. E non... La fatica che sia me stessa e mi esprima... Ehm... Manco Alecchiava. No. Ah, no. Questo no. Fino, fino a Siena. C'è. What? Io la penso una giornata poi, ne avrei ragazzi. Spostando anche sul tema, senza dover neanche spaziare. Però, sì, una volta che sono cascata, ecco, questo non c'è da niente, eh, l'anno scorso trovo lo scorpione, prendo il cane, me lo metto nello zaino, prendo la bici e dico noi ci trasferiamo, cioè proprio queste reazioni pacate, eccetera, e sono cascata per le scale, cioè fatto tipo 12-14 gradini, cercando di non fare male al cane, per cui i ragazzi siamo, cioè, proprio... e lì è stato Not Today 2. Salvando due vite poi. Salvando due vite. È vero. Il primis è la sua, per cui io ovviamente sono arrivata che ero a pezzi, però, insomma, un po' tipo C3PO in qualsiasi Star Wars, praticamente. È un po' così, cioè, c'è un dolore inimmaginabile, però Teo tranquillo, è pure un po' sbuffato, come a dire, ah, vabbè, non ho capito bene. Sì, sì, mi ricorda quando io sono svenuto davanti al mio cane e il mio cane, invece di venirmi in soccorso, mi ha guardato, ha detto, vabbè, ha preso, mi ha dato il culo e se n'è andato. Vabbè, si è accorto che stavi bene, che respiravi, diceva, non è morto, no, mi prenderà. Lei è un infame, cioè, l'ho sempre detto, il mio cane è un infame, però a lei si vuole bene, cioè, ha quegli infami carini. Ma che era c'è? È uno shibainu, uno shibainu. Ma che bellissimo. C'è uno vicino casa, che si chiama Aki, ed è di una tenerezza, una cosa incredibile. Se lo chiamo dall'altra parte della strada, gli faccio Aki, lui si gira, mi riconosce a distanza, ci facciamo le coccole e poi, come se niente fosse, si gira e se ne va. Ma di, vabbè, mo' va a fare pure. Hai fatto il tuo dovere, adesso me ne vado. Beh, bellissimo. Purtroppo c'è delle crisi, hanno scoperto di avere, che questo cagnolino c'è delle crisi epilettiche, purtroppo, date dal fatto che gli allevamenti sono più o meno sempre con gli stessi e quindi per farli riprodurre, quindi alla fine geneticamente questa cosa non va bene, pur di mantenere il pedigree e tutto quanto, e quindi mi ha provocato questo errore al sistema immunitario, nervoso, biologico, sì, neurologico, quindi è un po' così, stanno affrontando una marea di spese per le cure e tutto quanto, poveraccio, mi ha fatto una pena. Poi è giovanissimo, ci avrà tipo un anno. Carino. Però è tantissimo, ha un carattere, non lo so, fuori di testa, tutto particolare come il cane. Ok, ok, voi ce l'avete ragazzi del team, ragazzi del team non l'ho detto di, ce l'ho detto di proposito, spanchi. Ce l'hai detto proprio pensando. Esatto, pensando proprio a spanchi. Io ho solamente quella più bella perché quelle brutte tendo un po' a dimenticare, a rimuovere, che non mi sono utili nella vita, quelle che mi sono utili me ne ricordo, ma sfortunate. Preferisco. Sì, mi si è rotta la macchina, ho bucato, mi si è rotta la macchina, ho cambiato l'olio e l'olio, quello che mi ha cambiato l'olio, l'ha messo praticamente tutto e invece si deve lasciare sempre un po' e mi ha bruciato il motore. stavo sulla Roma a fiumicino. Ma non è un meccanico? Gli avrà messo... Ma è del mestiere? Sicuramente no. Era l'urologo di Perrino che stava... Che faccava le pietre, guardo... Che senza dire niente ha esagerato e... Eh, anche lì. Anche lì. Comunque, questo è quanto. E quella fortunata invece... A parte entrare nel team... Quella fortuna... Entrare nel team e sapere giù qua su e lei non c'ha... Guarda, 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 guarda... Guarda, guarda... Guarda, 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 guarda. Giulia, a qui mi capirai solo tu. Praticamente, mentre lavoravo in un negozio di videogiochi anni e anni e or sono, arrivando trovo 5 euro nel parcheggio e vabbè, dice 5 euro, ora ci compro le sigarette perché non avevo le sigarette. arrivo, do il cambio al collega il collega mi fa ma lo sai che ho queste sigarette che però io non fumo, puoi tu? ma certo e prendo le sigarette dopodiché arriva nel corso della giornata, 8 ore di turno una gombricola di ragazzi che si sentiva benissimo che erano dei fumatori di sigarette fanno il loro giretto, se ne vanno io vado a bere e trovo per terra un pacchetto di sigarette quindi prese messe in tasca e via, è stata una giornata scusate sei uscita con una busta quella giornata a onor del vero, sigarette è una metafora ma che fa Lorenzo è un capipara che c'è dietro? che animale è quello? è un capipara sembra una lontra è una lontra che cammina è bellissimo capipara capipara che tra l'altro sono ma il cuoca fa i selfie sì, questo è un capipara ah, pensavo fossero cuoca che hanno fietato in Italia l'allevamento domestico di cosa? di capipara? ma perché qualcuno ce li aveva? Luciano lo voleva prendere è il mio animale preferito Luciano ce l'ha che gira per l'asta questi sono quelli grossi allora sì è un porcellino di via gigante regà è l'animale più socievole del mondo pensavo sui cuoca che pava che sono? il cuoca è più piccolo eh sì è un po' tipo cuoca tu vedi che i cuoca quando vengono attaccati dai serpenti che sono il loro nemico acerrimo di tutta la vita di tutta la storia di tutto l'universo tirano i cuccioli per scappare sì che tu li vedi sempre no sorridenti carini eccetera cioè proprio carini e coprosi carini e coprosi è il mio figlio prendi loro prendi loro non lo so io non ce l'avrei in casa un animale del genere è un grosso roditore c'è scritto cioè un topo gigante guarda se vedi ci stanno dei video di capipara che giocano con i gatti cioè ma sono troppo carini anche quando li accarezzi in chat in chat Diti scrive sono enormi e infestanti ma io non portiamo a casa non sono infettanti amori mega sorci scrivono sì sono dei tuoi Mauro Mauro li facciamo giocare con Rufio esatto vediamo chi vince tra il capipara e il Rufio ma no guarda che si mettono lì se li coccolano tutti cioè io vi sono tutta una gallery con i capipara tipo distesi con tutti qualsiasi tipo di cuccia l'ho pensato qua allora Will sono da autobus agli altri animali regà veramente li portano li portano a presso ma come fate ad avere tutta questa cultura sui capipara scusatemi io ognuno che è curioso come animale ognuno di voi fa un aneddoto o comunque un'informazione in più cioè tutto eh sì 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 perché è particolare talmente particolare come l'ornitorinco esatto cosa sappiamo dell'ornitorinco quando l'ho visto la prima volta perché mi ricordava Maggie la mia cagnolina il boxer ah quindi ti lo somiglia hai una cagnolina che somiglia a un sorcio gigante praticamente è bellissimo sto cercando un'altra foto per farvi rivedere meglio ma l'abbiamo visti i megatopi non ti preoccupare Lorenzo i megatopi noi siamo anche a posto così eh non ti preoccupare veramente come se l'avessimo vista la foto ok quindi Spanky ci ha detto il suo chi altro ce l'ha sti giorni fortunati e sfortunati vado io vai Lucio vado a ballare in discoteca con due amici un mio amico perde gli occhiali eh aspettiamo quindi quell'amico era Clark Kent che storia che storia quindi il tuo amico perde gli occhiali sì quindi aspettiamo la fine della serata quindi era praticamente le sei e mezzo del mattino aspettiamo che tutti siano usciti dalla discoteca proviamo a salire nella sala superiore saliamo le scale che succede? è andato via è andato a cercare Capibara salvo le scale nel mentre vedo questi bei 50 euro in terra 50 euro? scusa stavo a guardare 50 euro? eh sì in discoteca per terra quindi la tua giornata più fortunata è quando hai trovato 50 euro per terra è triste e l'amico ha perso gli occhiali l'amico ha perso gli occhiali quindi l'ha ritrovato l'ha ritrovato l'ha ritrovato interi? interi i luciano i luciano erano 50 euro erano due da venti o uno da dieci siccome all'epoca avevamo un tabacchino hai trovato anche dei sandwich per terra no con quei 50 euro il giorno hai comprato i bitcoin ho comprato una cosa del super enalotto che hai fatto? ho fatto tipo terno qua terno ho vinto sui 2000 euro no armato vedi perché è tesoriere vedi? hai visto la ricchezza amore ciao questo super culo comunque eh sì ragazzi posso dire una cosa che ho sentito l'altra volta in radio così giusto per fare un poco di buonismo la cosa più sfortunata che può accadere ad un giocatore è vincere cioè nel senso che ti spiego Luciano per esempio Luciano tu hai vinto quanto 2000 euro in qualche cosa ecco se tu potenzialmente fossi stato eh predisposto alla ludopatia quella potrebbe essere stata per te una delle giornate più sfortunate perché comunque ti avrebbe potuto aprire il il demone del gioco cosa che è successa? non giocate ragazzi non giocate non fate come Luciano ragazzi non fate come Luciano perché poi i 50 euro tenetevi esatto esatto spendeteli ammazza in chat scrivono Didi io ho trovato 2400 euro scendo da una serata di lavoro al pub in periodo summer festival a Lucca ma li ho restituiti perché sono stupida cavolo 2400 euro no perché sei stupida perché sei onesta è onesta anche perché anche perché si vede c'è un aneddoto che mi ha segnato la vita anch'io trovai un portafoglio era di Bill Gates no però ai miei occhi sì praticamente ero ragazzino trovai questo portafoglio per terra che era pieno seppo di soldi quando siete ragazzino aprite un portafoglio così e ci sono una serie di finita di fogli di soldi tu pensi vado a comprarmi giocattoli gelato quello quell'altro il mondo mi potevo comprare con quei soldi era era praticamente tutto lo stipendio di un'intera vacanza per un'intera famiglia e gli era caduto a una persona ma io non ci avevo pensato a sta cosa pensavo solamente ad andare in paese e a comprarmi il mondo fino a che la sera con gli amici quindi ce l'eravamo anche un po' divisi le cose eravamo ficcati nel costume nel qua nel dappertutto pur di andare in paese non con il malloppo e poi siamo tornati ma non ce l'eravamo comprati manco chissà che cosa poi alla fine e beccammo uno che faceva su e giù per la stradina di queste casette del mare disperato disperato ma non era per lui era il suo amico era il suo miglior amico era il suo amico che era ospite da loro e insomma ha perso era disperato tutta la famiglia insomma la merda e questo col casco ci disse ragazzi voi non è che avete trovato un portafoglio c'è il mio amico che l'ha perso c'erano tutti i soldi della vacanza e noi ci siamo sentiti un po' una merda e abbiamo fatto ma che per caso erano questi e abbiamo compito 5.000 lire di qua 10.000 lire di là 50.000 lire di qua ce l'avamo piccati ovunque questo racimola tutti i soldi guarda me dritto negli occhi io non ho mai capito chi fosse questa persona perché aveva il casco e non l'avevo riconosciuto ma guarda me dritto negli occhi di tutto il gruppetto degli amici mi guarda e mi fa Davide io da te non me lo sarei mai aspettato io l'ho guardato così impietrito ho fatto ma ma io mi hai davvero deluso cazzo cioè quella è stata una botta non l'ho mai capito non l'ho mai capito come non l'ho mai capito non l'ho mai capito chi fosse mi conosceva mi conosceva perché era uno delle casette però non ho mai capito chi fosse da quel giorno e questa cosa mi ha segnato a vita io da quel giorno sono diventato un buon samaritano cioè praticamente qualsiasi cosa ho sempre denunciato qualsiasi cosa ho sempre restituito qualsiasi cosa anche lingotti d'oro io ho sempre ridato tutto facendo carte false per ritrovare la persona l'ultimo è successo poco tempo fa un portafoglio di un ragazzo davanti a una panchina nel mio portone ho rintracciato non si sa come con sto pischelletto che il giorno dopo doveva partire e c'era la carta di credito e i soldi di dentro quindi quella esperienza mi segnò talmente profondamente che ha cambiato tutto il corso della mia vita quell'episodio comunque Davide sei diventato l'autore delle giornate fortunate degli altri quindi dopo la sfortuna la prima di trovare te è bella eh sì sì praticamente sì ho ritrovato un sacco di cose e le ho restituite tutte sempre sei diventato così sei diventato così sei diventato così no no io molto più easy un annetto fa che avevo una cena di lavoro e ho oh ma tu non l'hai già detta tu non l'hai già detta la tua questa è una cosa che non c'entra in niente l'aneddoto mio è l'aneddoto dei spanchi dai quindi stai stai togliendo guarda ci metto poco dovevo pagare sta cena che era circa 80 euro e questo invece di battermi 80 euro mi ha battuto 80 centesimi eh buono e non se ne è reso conto palesemente no certo sono tornata io indietro brava brava mamma mia quanto siamo onesti qua dentro che delusione ma per quanto per farvi capire quanto sono onesto pure io l'altra sera stavo al ristorante che chiude tardissimo di notte ma perché era stanco così mi dice allora te che hai preso un secondo un contorno e poi poi l'acqua e io gli ho fatto anche e una birra ecco ah sì sì pur la birra ok grazie grazie a te come l'ho detto cioè chi cazzo l'avrebbe detto nessuno nessuno una birra che so 5-6 euro ma neanche cioè sì 4 euro così vabbè ma dipende sei in un posto dove vai spesso comunque in qualche modo cioè io glielo direi ecco beh però devo dire la verità io in generale lo direi anche se un posto in un posto dove non andrei mai più io non lo so se lo direi in generale no io devo dire se me ne accorgo faccio presente se non me ne accorgo è andata così vabbè se non te ne accorgi dove vanno così dove vanno così cioè vado a mangiare mare me battono 80 centesimi io non so se torno quando mi accorgo che mi ha levato solo 80 centesimi questo sto a dire ah io non so accortare ma c'è è capito cioè te ne accorgi l'affari per carità de Dio te ne accorgi perché stai a guardare l'estratto conto e poi dipende sempre di che stiamo a parlare perché i ragazzi de prima sono tornati a vedere se gli era cascato qualcosa io mi sono fatto i cazzi miei cioè dipende se erano possono stare i soldi forse gli avrei ridati no però capisco hai fatto bene perché comunque a certe cose le sigarette bisogna stare attenti cioè comunque gli hai dato una lezione per cui da lì no non lo sapranno mai che adesso è buon samaritano eccetera quelli inseperdono un cazzo da meretta no spenchi non lo sapranno mai ora lo sanno ora lo sanno ora lo sanno e quei ragazzi eravamo noi finalmente ti abbiamo trovata spenchi bellissimo allora andiamo veloci su quello di Willow e Andrea e poi facciamo l'annuncio che abbiamo promesso Willow tu hai la faccia di chi già ce l'ha ma in realtà no fortunatamente per me è sempre stata una vita molto equilibrata cioè alle botte di fortuna sempre la botta di sfiga dopo però grazie al cielo ho mai cose particolarmente eclatanti tipo fine di una bella serata scopro di aver perso le chiavi oppure una cosa andato tutto liscio al lavoro sbang e mi prendono con la macchina quindi così sono esempi sei mesi in terapia intensiva non capita eh non è che però quel giorno è un giorno di solo è vero va bene va bene questo a te quindi ogni volta c'è qualcosa di figo devi stare molto attenta perché subito capiterà qualcosa di brutto o viceversa equilibrata Mauro quindi tu stai annunciando qualcosa di figo adesso a voi non succede che quando le cose vanno troppo bene poi ci avete paura sì sempre il contraccolpo certo un pochino sì terrore sì ma quando quando succede qualche cosa una giornata va bene tutta dall'inizio alla fine o succede una serie di cose tu dici cazzo sta andando troppo bene sì c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa che non va prima o poi si deve riequilibrare la cosa sì sì io vivo così anche quando ti aiuta qualcuno che ti piace no che ti sembra dici wow è magia ragazzi se non c'è un pizzico di disagio un pizzico di disagio la magia non si concretizza e ti arriva una sveglia atomica questa questa dovrebbe essere una massima di vita perché è una massima di vita questa assolutamente d'accordo allora sentite prima di dare un uccio per favore manca Andrea perché l'ho bisfrattata a sto modo poverino dicci ma cosa ah no scusa che che scusa una cosa al volo ma man ma a te non dava fastidio avere le persone scambiate sulla come telecamere sì eh sì ma non si ricorda più l'ordine non mi ricordo l'ordine quindi per me stanno apposta ho svelato l'arcano esatto ho svelato l'arcano perché allora non ti do niente è uscito è rientrato Davide stava tutto a sinistra giusto stava così c'era qualcosa che mi stava infatti disturbando da qualche tempo bene bene adesso mi sento meglio e non è nel capibara esatto oddio quello è abbastanza disturbante anche quella faccia sono io sono qui quella faccia con scritto Lorenzo Crisci sotto e la sua voce è abbastanza ma no a me piace come sparisce Lorenzo si nasconde proprio evapora aiuto non sono più io è vero torna Andrea ecco 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 pensavamo fossi andato via e invece ah ero il capibara dobbiamo il capibara spero se ne ha fatto ridere più del dovuto si sta sentendo male era così divertente però mi ha fatto ridere perché sparisce guardatelo ma il pc come fa a riconoscere che deve nascondere solamente le è lo sfondo ma capisce che c'è una persona da contornare e il resto no si si questa tecnologia mamma mia di oggi non lo so scusate ragazzi Andrea continua allora sì ok parto dalla cosa quella più sforzata che in realtà era semplicemente l'unione di tante cose che è stato il giorno in cui poi hanno effettivamente chiuso io vivevo a Cremona prima che è dove è partito il discorso delle varie chiusure quando c'è stato il covid e io praticamente il giorno in cui hanno chiuso tutto è stato il giorno in cui cioè prima che annunciassero la chiusura di tutto sono tornato a casa ma è stata una coincidenza molto particolare però me lo ricordo con estrema sfortuna perché è stato tutto un insieme un viaggio della speranza per torno a casa dovevo fare una sessione d'esami che poi è saltata in parte poi avevo mezzo sbroccato gli avevo detto a un professore che aveva fatto un po' stronzo che aveva fatto molto da una pizza te faccio la terzo piano cioè insomma c'è stata un po' una situazione molto particolare quanto sei manesco questo era un personaggio questo era un personaggio e mi aveva beccato in una giornata un po' particolare e quindi niente soprattutto è un insieme di cose che ha portato poi a interrompere il mio percorso ovviamente universitario non mi sarei mai laureato con quel professore e poi qualche tempo dopo a interrompere poi il mio rapporto con la persona che avevo a fianco al tempo però è scaturito tutto da delle cose successe in quella giornata quindi non so se è fortuna o sfortuna in quel momento l'ho vissuto come un momento di estrema sfortuna magari non è così il momento fortunato invece l'unione di due cose una è cioè nello stesso giorno andavo a Londra prima volta che andavo a Londra per come al stesso giorno come al stesso giorno dicevi che stavano chiudendo tutto le due cose sono le due cose positive sono avvenute nello stesso giorno non la negativa la positiva no no non ho fatto 18 anni a marzo per il diciottesimo vado a Londra e totalmente a caso il 17 pomeriggio vedo un post random Dentizio che fa vedere che Andrew Garfield stava entrando al National Theater per l'ultima replica che ci sarebbe stata di Angel in America sì e poi dopo basta ci sarebbe stato uno stop di tipo sei mesi una cosa del genere io prendo insieme all'altra persona che era con me andiamo così al viaggio della speranza per vedere Andrew Garfield la sera persi per Londra riusciamo alla fine a trovare il National Theater ovviamente lo staff del National Theater allarmatissimo perché io stavo al telefono parlavo no oddio adesso chi sei e sbracciavo quindi hanno chiamato la security insomma in situazioni molto particolari e riesco a vedere Andrew Garfield dell'incontro ci parlo un po' è bellissimo la mattina dopo faccio colazione mentre faccio colazione in una tavola calda vedo che passa un servizio al telegiornale dove praticamente in una via dove io ero passato per buona parte del pomeriggio perché mi ero perso c'era stata una strage cioè Antizio era entrato in una moschea e aveva fatto piazza pulita praticamente e niente quindi fortunato perché ho totalmente saltato questa strage avvenuta e poi ho incontrato Andrew Garfield che è un attore che sta ammazza è stato molto fortunato quella è una giornata molto ammazza per fortuna perché non è successo ammazza beh quello sicuramente l'ha fatto io no io no basta va bene va bene è alto a giocare è alto ma non molto mi aspettavo molto più alto e in realtà sarà 1,80 indicativamente c'era un po' di dislivello 1,83 magari c'era un po' di dislivello tra me e lui ma è una persona carinissima io al tempo facevo sport quindi ero mingerlino però lievemente a posto lievemente piazzato e mi ricordo che siccome era il mio compleanno lui mi fece gli auguri e mi abbracciò nell'abbracciarlo sentì proprio le sue ossa hai presente quella sensazione del se stringo troppo si spezza ecco mi ha dato proprio quell'impressione lì quindi è che così è così sì però è veramente carinellino è carinellino carinellino l'invito di Giulio questa cosa mi rende molto felice c'è a ridere di più di quanto non sia necessario perché non lo capisco anche tu sono felice abbiamo trovato il punto debole di Simone il capibara il capibara è un capibara ve lo farò sapere però come sparisce è vero è carino è bellissimo è bellissimo comunque questa chat è piena di belle persone perché anche Rick Lee dice la mia ex coinquilina andò a fare la spesa a Lidl e la faceva con quel carrelletto per la spesa per prendere l'acqua in occasione del suo compleanno dovette prendere delle birre e le mise sul fondo poi ha messo una cassa d'acqua sopra si era dimenticata delle birre a fine spesa andando alla cassa fatto sta che non le ha pagate ma è tornata dopo un paio di giorni a ripagarle per il senso di colpa cioè vedete ci abbiamo che persone che persone fantastiche cioè incredibile incredibile capibara approves lorenzo dovrebbero fare un film d'animazione sui capibara e farti doppiare il protagonista tutti tutti il mio sogno li doppia solo lui esatto esatto ti puoi dimar ti puoi dimar ti puoi dimar Simone viene a fare il talent lì va bene va bene prima di andare avanti con la domanda successiva facciamo questo bell'annuncio allora noi non potevamo parlarne però erano giorni che stavamo diciamo parlando in trattativa con l'organizzazione oggi si è messo nero su bianco quindi possiamo dirlo saremo convolti in due eventi diversi ma connessi da qui al primo maggio il primo è un evento che si chiama 1M Next dove si affronteranno in un contest 12 artisti musicisti emergenti e ne usciranno soltanto tre la giuria è di qualità c'è il presidente della Warner Music c'è tanta bella gente dentro e noi saremo lì un po' sul palco un po' fuori dal palco in quanto creator e presentatori però la cosa molto figa è che connesso a questo evento il 29 il 30 e il primo il primo saremo al concerto del primo maggio di Roma quindi saremo staremo lavorando lì nel backstage intervistando tutti gli ospiti della manifestazione nel nostro stile ovviamente perché se no che cavolo c'è una maffa se devo fare la domanda che è il pezzo quindi porremo domande a tutti gli artisti che transiteranno in quella in quell'occasione al concertone quindi al momento vi dico solo che sono stati annunciati Aurora Ariete Comacose Matteo Paolillo Mr. Rain Tananai Carl Brave Fulminacci Aiello Piero Pelù Rosville Inalfa Baustel Francesco Gabbani Rocco Hunt Mara Sattei Levante e altri ne verranno da qui fino altri devono ancora essere annunciati quindi sarà per noi una bella una bella prova una bella prova bravi ragazzi bravi ragazzi grazie grazie ce la facciamo un applauso ringraziamo ringraziamo anche la lontra ringraziamo la lontra capibara esatto esatto quindi per noi sarà lontra è il mio animale preferito io dico la lontra perché quella ha una faccia da lontra dai ci ha messo una lontra la lontra e la sta spacciando per capibara la lontra è più bella che capibara è vero è vero sono bellissime quindi standing ovation grande ovviamente questa cosa comporta che voi non vedrete noi in live andremo lì faremo dei contenuti social per gli altri canali ma poi quello che andremo a registrare lo andremo a montare e faremo una live dove vi faremo vedere quello che è accaduto nel backstage con noi lateralmente che commentiamo un po' stile già l'appas però diverso con le nostre facce che si vedono però se state comunque aggiornati sui nostri social in quelle giornate vi faremo vedere comunque dei contenuti esclusivi giusto per darvi quell'assaggio a parte il 24 dove fondamentalmente si capirà chi dei 12 i 3 dei 12 che suoneranno poi al concerto tra gli artisti emergenti il 29 il 30 sono giornate di prove di check quindi effettivamente saremo dietro a tutta l'organizzazione e possiamo condividere sostanzialmente tutto quello che accade nel retro del concerto nel primo maggio il primo maggio c'è proprio l'evento quindi è proprio la giornata delle giornate è vero e tra l'altro l'organizzazione ha fatto un errore molto grave con noi ci ha detto voi avete libertà di fare quello che vi pare e quindi di fermare chi volete a parte ovviamente gli artisti che contattando l'ufficio stampa già sanno che comunque dovranno fermarsi da noi però dato che nel backstage ci sono tante persone che non sono state annunciate ci hanno detto voi potete fare come vi pare quindi noi andremo là coinvolgete Fedez a questo punto e non sappiamo se c'è se sarà presente lo convolgeremo assolutamente però questa era la notizia bomba che volevamo darvi perché noi insomma non ce l'aspettavamo posso dire posso dire che all'inizio appunto stavamo sentendo per essere presenti al Comic Con poi è saltata la cosa del Comic Con per altre ragioni che adesso non sono importanti e eravamo rimasti un po' tipo vabbè dai che palle però era un bel evento e poi è arrivato questo e questo è mille per quindi nel senso esatto anche digerirlo non è stato facile nella sfortuna ma è una grossa responsabilità adesso cercheremo di portare il nostro modo di essere anche al concerto nel primo maggio chissà che esce fuori magari ci vuole una cosa bella magari una cosa bruttissima lo scopriremo magari tu la vedis da grandi poteri continuo ti prego non voglio rovinare da grandi poteri no 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 per voler continuare voi derivano da grandi poteri è una grossa responsabilità no tu stavi dicendo una grossa responsabilità io più che altro la vedo come una grande opportunità per voi nel senso che mi sembra una delle cose più belle che vi siano che vi possano capitare in questo contesto in questo momento no assolutamente quindi ragazzi me coglioni congratulazioni grazie grazie ci seguirete post le varie cose quindi è un bel e poi ripeto se mi mettono ultimo non succede ma se succede che c'è ultimo io sono ancora più contento no loro il grande errore che hanno fatto è stato dire ragazzi mi raccomando il primo maggio è un casino quindi non vi mettete a fare perché dobbiamo andare molto rapidi però 29 e 30 potete fare quello che insomma potete fermare tutti fa macello è un grande è un grande errore questo è veramente un grande errore da parte loro che vorrà dire che noi il 29 e 30 romperemo il cazzo a chiunque quelli che stanno lì ma posso dire una cosa dovevi giocare tutte le carte possibili sì ma noi romperemo il cazzo a chiunque anche il primo maggio ma loro non lo sanno loro non lo sanno ma da adesso adesso lo sanno adesso lo sanno però c'è carta canta ormai c'è carta canta quindi non possono più tirarsi indietro gli tenete manco una scorrente va bene va bene andiamo avanti dopo questa bella notizia con le nostre domande a questo punto penso che faremo in tempo a farne solo una e quale scegliamo devo andare un attimo al bagno va bene va bene in frattempo Mauro pesca a caso scegliendo una domanda se no ti metto in grande e stiamo in silenzio così ti mettiamo pressione perino esatto vedi che figata quella cosa dietro Mauro per piacere me lo ingrandisci Lorenzo e gli fai fare questa la gag va bene Lorenzo ecco la scena è tua ma io devo mettere la seconda vuole la gag in grande ti prego e io questa è la puntata più bella della mia vita grazie Lorenzo Lorenzo soffre di ansia già mi piace così già mi piace così ragazzi il silenzio così secondo me lo devi fare lento quando sparisci fa tanto blob eccolo è arrivato no ragazzi Simone sei un grande prima te il canale è stato capibarato salvatelo questa è la reazione di Simone ecco la reazione di Simone è in grande ma perché che cazzo è successo nella vita per avere questo tipo di reazione a questa cosa così inutile vorrei sapere c'è anche tu al lato allegro dei capibara bellissimo bellissimo cioè guardate che maestosità quanta grazia quanta grazia in questo animale così quanta grazia è grazioso è maestoso è bellissimo va bene allora la domanda scegliete voi ce ne sono vari non mi va di prendermi questa responsabilità quindi vai dicci le domande vi dico una però perché se no sporiamo sicuro l'episodio in cui vi siete divertiti di più del prime time cartone preferito di oggi risposto vai cartone cartone preferito di Cartoon Network Cartoon Network di Gnardi87 oh non rompe il cazzo Spanky quale supereroe villain Marvel vorreste essere vorrei chiedervi se potete raccontare una barzelletta a testa visto il pensiero felice per volare nell'isola non c'è questa te l'hanno fregata Andrea il gioco preferito di infanzia quale scegliamo dai che ce ne so non l'ho letto già tipo 10 scegliamo ma perché non ne facciamo veloci tipo botta e risposta pam 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 tanto è l'ultima facciamo un po' come cazzo ci pare ma sì quindi ve le rileggo in successione allora la prima colletto è episodio preferito del prime time essendo l'ultima puntata della stagione Simone ha detto questa già senza ombra di dubbio ragazzi tutto il rispetto per chi non c'è di questa cosa che cretino ma sono tutti sono tutti belli io non mi ricordo i numeri qual è il numero 3 il numero 5 del prime time non vi so dire sono tutti belli ogni episodio quella che mi ha veramente elevato la vita è stata quella che poi Simone in chat il giorno dopo ha fatto il riassunto sì bellissimo quella del personaggio di D&D che ero diventato un prete hai capito no e pensavo la puntata dove hanno scoperto il cosa amore è quella è sempre la stessa mi sa è sempre la stessa no non era quella no non era quella non era cosa amore non è sai che non era quella dai il blog no non è niente Davide non da retta a queste voci falsate non è niente il cosa amore sì 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 si è perché ando spiegando me con la telecamera Davide al volo al volo ti dico ero giovane in esperto stavamo in una live con un ospite io questo mi ha fatto una domanda io stavo sovra pensiero gli ho risposto cosa amore allora tutti si sono messi a ride lui compreso è diventata la clip più seconda più vista del canale perché la prima è quella di Luciano che si masturba ma non è vero non avevo capito male non avevo capito il cosa amore io avevo capito il blog dell'amore di Alberto no quello è tutti nudi punto com tutti nudi punto com tutti nudi punto com tutti nudi conosce solo Alberto quindi potrebbe essere è vero quello è tutti nudi punto com ma quello me lo ricordo ma il capibara invece per il capibara qual è stato l'episodio più bello questo questo no allora non lo so raga io mi sono divertito molto quando è uscito quella clip del cosa amore devo dire mi ha fatto molto ridere sì però anche adesso mi sto sentendo ma tutte dai sì sono tutte belle sono tutte belle allora eh ok facciamo rispondere solo a loro raga perché se no dopo stiamo certo ma sì ma chi se ne frega di noi cioè siete voi i protagonisti no è l'ultima puntata dobbiamo rispondere anche noi allora io ti dico tutte perché sono come tutte tutti i figli miei i miei episodi vabbè non hai un figlio preferito casomai no non ho un figlio preferito non ho un figlio preferito ossia il figlio preferito è quello che a seconda del momento mi dimostra più amore quindi chi mi dimostra più amore fanno fanno gradatoria e diventano il mio preferito capito ti vogliamo bene amore esatto esatto quindi spanchi qua sta proprio bassa perché non mi non mi esalta mai sempre sempre scarica sempre a dire brutte parole nei miei confronti capito è vero è vero tutto vero te sei il figlio peggiore di questo bellissimo team qualcuno deve pure essere la pecora nera esatto esatto eh ma tu sei a può però per voi qual è stato invece il più bel episodio del prime time velocissimi tutti quelli in cui sono stato io giusto paleso giusto il primo il primo il primo che hai fatto o il primo che che ha fatto combaciano e lui c'era il primo combaciano anche io c'ero nel primo e anche tu spanchi quante sono sei in totale sei questa è la sesta non posso essere presente sempre a differenza tua io vado dosato sono una di quelle presenze eh ma lo sai che forse solo io e Mauro siamo stati presenti per tutte e sei contemporaneamente no anch'io anch'io ah ah cazzo infatti ma lo sai non solo io ma lo sai che stavo pensando che in realtà però siamo noi quattro noi quattro quelli che sono stati sempre presenti sì non ce ne sono altri quindi siamo l'all of fame la seconda stagione quindi Simone non ci sarà è quello che ci sta dicendo la seconda stagione la seconda stagione si fonda mi fanno mai d'accordo sta perdendo un po' di efficacia però Lore secondo me ti devi fermare un ottimo prima e io me la tengo ora per una cosa già ho pensato una cosa va bene andiamo avanti cartone preferito i Cartoon Network io non ho mai visto Cartoon Network quindi non te lo so leone il cane fifone esatto leone il cane fifone mucca e pollo mucca e pollo si bellissimo me inquietava ma cosa mucca e pollo si no ce ne avevo detto si non lo so oppure cosa quello Johnny Bravo Johnny Bravo ehi mamma hey baby io ho le canzoni in testa ok ok voi ce l'avete ragazzi del team nome in codice commando nuovi diavoli ok non so cosa sia Willow fa niente fa niente leone leone spanchi luciano leone sempre riconvinto si si ho detto prima mentre diceva le domande si si se vuoi dico qualcos'altro qualcos'altro ma questo è il mood di spanchi è una cosa io non l'ho mai visto Cartoon Network l'hai detto vero luciano leone 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 ha vinto nome neri scorpione allora quale supereroe o villain sia di sì che marvel vorresti come abitante di condominio cioè tipo vicino di casa chi vorresti come supereroe villain no se no mi fa esplodere quindi no io vorrei Thanos ah tu vorresti proprio Thanos Thanos ti ho immagini erino nei condominio Thanos bam amministratore Thanos no tanto che 110 chi Deadpool Deadpool beh simpaticissimo sì anch'io per Ryan Reynolds o per il personaggio ma no Deadpool ok proprio no no io Ryan Reynolds vabbè poi si compra una pizza un caffè vieni da me per me vuole stare anche con la maschera va bene e poi a Deadpool puoi anche divertirti a tagliargli il pisello come Lorena Bobbitt è vero divertitissimo volendosi volendosi allora non vorrei la cosa non vorresti la cosa non vorrei la cosa come abitante del mio stesso condominio perché metti che vive sopra casa mia ogni giorno che cambia ba 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 non è no e Doctor Strange secondo me è una brava persona da da avere in condominio una spirina che cosa che è sempre un dottore ecco cioè non è che è una persona è che è un dottore Lorenzo tu chi vorresti boh boh e forse non lo so sapete Tony 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 mi facciamo pure amicizia mi chiede pure qualcosa di figo penso che è il condominio della Madonna eh no è il condominio Beverly Hills super sai come te lo smonta e rimonta vero no bello ma te lo smonta e rimonta di che stiamo parlando no il condominio condominio che cosa avete capito hanno iniziato a ridere io mi ero fatto qualche dubbio il condominio ragazzi eh niente non si può dire più niente qua è l'ultimo episodio eccolo se fosse sdraiato io direi Starlord Peter Quill sai le risate che ci faremmo da dentro con un compagno di bevute di mangiate del genere aneddoti cioè direi Peter Quill Luciano allora io ti dico Reed Richards The Bot vabbè Reed Richards dei Fantastici 4 Andrea Spider-Man scontatissimo Ultron ah Ultron beh Ultron è un bellissimo personaggio assolutamente sì poi è un frutto di una specie di intelligenza artificiale quindi insomma sarebbe interessante vederne l'evoluzione lavorare migliorare quindi sarebbe per me una grossa sfida e poi ti vedresti ucciso da Ultron no perché come buono sceglie Jarvis la 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 più grande creazione può portare alla distruzione di se stessi va bene Ultron può essere un sacrificio richiesto spanchi tu chi vuoi spanchi tu chi vuoi quanto siete nerd ragazzi ma di cattivi cattivi o buoni Marvel DC chi vuoi io resto su Deadpool di cattivo voglio Magneto ma Simone perché l'hai detto con quasi meravigliato proprio ormai non era una constatazione l'ha detto anche con un po' di spregio che amarezza quello tu chi vuoi faccio mix buono cattivo nel senso di tempistica quindi resto fedele al mio soldato d'inverno ma soprattutto perché ho sempre bisogno di qualcuno che mi apre i barattoli oppure non riesco a cessare la roba di forza quindi col bracciore e poi sai come staccai il braccio quindi eventualmente sai come neutralizzare ma ragazzi abbiamo detto nel condominio dobbiamo rompere i coglioni in continuazione a questi poveri ragazzi che comunque vivono per conto loro avranno il diritto vabbè si tiene rotolo si ogni giorno mi apri un barattolo e che cazzo quello c'avrà pure i suoi poi soldato d'inverno è uno poco socievole ma anche solo per un bel vedere così capito che asce è un premio quell'attore cavolo lo sapete chi è romeno si la mamma credo sia una musicista pianista roba a che fare con la lirica quando è detto quando è detto la mamma pensavo stesse per partire un insulto invece al mio sebastian assolutamente no non so perché e il cattivo mamma sempre lui mamma mamma che hai detto Simone allora ci chiedono di raccontare una barzelletta a testa io non le conosco le barzellette io non le so raccontare io non le conosco io me le ho scritte le avevo scritte qualche tempo sempre come vanno a finire le racconto malissimo infatti neanche io io non le conosco luciano dice sta barzelletta dai allora io ribalterei ribalterei io ce la farei dire la barzelletta delle barzette a luciano però prima si lo facciamo però prima mettiamo un full screen Simone perché è l'unico che c'è no no ma non è così una cosa che mi è venuta al momento eccolo la scenetta c'era c'era Davide Perino che raccontò di quanto l'erezione fosse una cosa così magistrale questa cosa lui andò dall'urologo e dopo che questa persona gli infilò un dito evidentemente senza avvisarlo gli raccontò della maestosità dell'erezione ad un certo punto Davide gli fa dottore dottore grazie mille mi ha aperto un mondo guardi il dottore deve ancora arrivare io non sono il dottore ma questo è il dottore il re ha parlato il re ha parlato ma che gli devi dire funzionava che gli devi dire io ce l'ho io ce l'ho la lontra no no la lontra il capibato non è una lontra la lontra la lontra è più bella sono una lontra vai ecco cosa fa una fabbrica di carta igienica che fallisce fa rotoli hai rovinato tutto no cazzo sei diventato Ialdo Giovanni e Giacomo di adesso sei diventato porca miseria ma io ho cercato le freddure su internet adesso adesso però deve brillare lui deve brillare lui è vero nel momento è la star è un po' cattivella ma far vai falla dilla perché me la recupero un attimo me la recupero un attimo e bordi la sta a legge l'avevo scritta ah ok perché dobbiamo capire che Luciano è autore di barzellette quindi adesso sta tirando fuori una sua creazione non è originale è un adattamento è una cover esatto ma di cannarsi vai Lucio la scena è tua allora una bambina entra in camera dei genitori e vede la foto di una signora anziana e chiede alla mamma ma che è un racconto stai a leggere questa signora voglio mettere la musica d'atmosfera no ma ormai l'hai interrotta l'hai rotta il ritmo ma non c'era il ritmo ma non c'era raga non c'era il ritmo sembrava che stesse a leggere tipo l'inizio del romanzo thriller cioè non rifalla rifalla dai vai un po' più recitala Luciano recitala non sensila va bene è il secondo tentativo Giulia dirigilo vai Luciano più sentimento più cuore vai una bambina entra in camera dei genitori e vede la foto di una signora anziana e chiede la mamma due punti mamma mamma due punti e la madre risponde risponde la tristata questa è tua nonna piccola mia eri appena nata quando è andata in cielo e come ci è andata in cielo insiste la bimba è caduta dal balcone amore mio replica la mamma la bimba la guarda stupita e replica micchia che rimbalzo non l'ho capito non l'ho capito non l'ho capito posso dire una cosa la barzelletta più brutta ho sentito tutto che cosa triste Luciano oddio posso dire posso dire che Luciano in privato mi ha mandato una barzelletta che prevedeva tipo leccare cose e sentire sapori diversi però non ha avuto il coraggio non ha avuto il coraggio di dire sei un vigliacco perché non facciamo altro che raccontare queste cose fatti Luciano comunque questa barzelletta faceva schifo fattelo dire lo so dovevo dire quella che dico sempre che è velocissima dai recupera se è quella del sordo e il cieco non la dì perché fa no non è quella era quella di Lady Italiana era bellissima era uno schianto mamma mia che cattiva noi ci dissociamo ci dissociamo Luciano Luciano questa era ancora più brutta di quella di prima cioè ma una barzelletta normale ma una barzelletta normale cioè tipo la chat ce ne sta suggerendo qualcuna tipo che ne so l'auto preferita dei pinguini la Polo oppure qual è il colmo per una disoccupata chiamarsi Assunta cioè queste sono carine leggere vabbè però le ha fatte la chat ho dovuto lavare il caffè ma c'è Risar che era macchiato oddio c'è Charmander ma che sta combinando Lorenzo ragazzi sta facendo cose sta rischiando un po' dei personaggi un crossover cioè Giulia fuma e Lorenzo prende agli effetti ma perché state vicini ecco perché non gli sputa il fumo addosso è fumo passivo esatto questo è il risultato del fumo passivo è ancora peggio il fumo passivo qual è il vostro gioco preferito di infanzia ma gioco per gioco si intende tipo gioco da tavolo gioco giocattolo videogame cosa si intende non lo so hanno scritto una palla tipo acchiapparella non lo so ah gioco attività hai aggiunto sono quattro alternative sono troppo scegliamone una tirare con la pistola d'aria compressa cercare di prendere mia sorella quando era piccola no ma come che poi pistola d'aria compressa fanno male se te beccano la utilizzavo perché la sorella questo serve la utilizzavo per farmi da bersaglio mobile perché io devo diventare sempre più bravo ah quindi gli dicevi scappa e corri cioè dopo due tre quello è il mio gioco preferito poi sono passato alla cerbottana e poi alla fionda infatti stavo di poi alla fionda ma ti parla ancora ma come era e poi e poi e poi e poi le stellette ninja pure quelle vanno male ma bene ma no Davide com'era com'era la mira com'era la mira ero bravo ero bravo chiedi la sua sorella la chiamano scola pasta chiedi la mia sorella scola pasta la chiamano ah si me la son fatta quando e questa ragazzi è la storia di come mi sono fatto questa cicatrice è vero va bene mi è venuto un ricordo di Davide di quando ero più piccolo ma il ricordo è tuo che hai visto Davide o è proprio di Davide e ce l'hai detto è un paradosso ci siamo entrambi è un mio ricordo di entrambi ok era uno dei primitorni che facevo di Alvin quindi parliamo della serie quindi parliamo di Italia Film era tipo boh cinque anni fa può essere una cosa del genere io mi ricordo che c'eri tu io stavo per entrare in sala mi stavo togliendo la giacca e mentre parlavo con Lorena tutti i bottoni e mi hai messo i bottoni del Montgomery tutti quanti belli cioè tu te la stavi togliendo e lui te la rimesca e abbottonata perché doveva essere abbottonata precisa perché mi ricordo mentre succedeva sta cosa io parlavo con Lorena quindi tu che stavi davanti facevi ecco così è molto più bello ma che vuole questo adulto che mi vuole questo signore ma che vuole questo Lorenzo Lorenzo è stato in quel momento che è scoccata la scintilla e ti sei fatto il tatuaggio di Davide io ho detto niente questa cosa questa cosa ai bottoni è il mio diopera preferito vabbè adesso si spiegano tante cose si spiegano tante cose un po' mi ricordo poco tempo prima oltretutto era successa una cosa con tua sorella in sala cioè tutto in famiglia io stavo facendo un turno del cartone del Re Leone la Youngard era qualche mese prima o qualche mese dopo era stesso periodo comunque e lei è entrata in sala con Leslie stava in direzione è entrata in sala dall'assistente ciao come va e poi ha detto oh guarda la mattina non è temperata e ha tirato fuori un astuccio dallo zaino grosso così e Leslie poi pausa con l'aria che gli ha temperato tutto quella è una mania che gli ho attaccato e c'è poco da fare cioè scusa scusa ma tua sorella gira con un astuccio gigante pieno di temperini si pure io io ho un temperamatite a manovella eh vabbè quelli sono fighi a manovella sempre a prezzo dietro si si sempre a prezzo cioè tu quando io tempero tempero le matite a tutti pure negli uffici vado perché non riesco a resistere a vedere una matita spuntata e quindi vado anche anche negli uffici dell'Italia Film insomma della laser insomma vado in giro per gli uffici a temperare le matite io mi immagino questa cosa è una matita ma poi mi prendono mi prendono in giro anche perché vado a gonfiare adesso mi vergogno un po' però vado a gonfiare le gomme delle macchine che stanno intorno al mio garage qua si sta prendo un vaso di bagnare e una volta mi fermò la polizia ben direi fece tutta la strada contro mano e mi fermò e se lei che cosa sta facendo no veramente stavo stavo sistemando la macchina di una mia amica ah non è sua no non è mia ah venga con noi no 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 c'ho le chiavi c'ho le chiavi posso dimostrare scusi cosa sta esattamente cosa sta facendo no stavo gonfiando le gomme stavo con la bomboletta di svitol così perché aprivo lo sportello e facevo oh certo si si poi facevo così così e poi facevo così e la cosa strana è che erano tipo le due e mezza di notte che ero solo io per strada che smaneggiavo sulla macchina facevo così col compressore non mi sembra un ottimo è la cosa meno strana di quello che stai raccontando di tutto quello che stai raccontando un occhiadino nella macchina ma tu più che altro mi chiedo quando c'è alle due e mezza di notte magari stavi a casa e dicevi non ho sonno fammi gonfiare non ho sonno ne vedeva dalla finestra che erano scoppi e mi è passata fammi vedere che c'ha bisogno della gonfiatina ah in quel caso in quel caso era su commissione cioè era stata una cosa commissionata fortuna sapendo sapendo della mia maniacalità invece spesso quando mi trovo nei pressi del garage una macchina che ha una ruota sgonfia o bassa di pressione io non resisto parte la cosa e devo andare lì e gonfio Simone mi metto lì col manometro che hai sempre appresso come il temperamatore insieme all'astuccio col temperamatore comunque immaginatevi questa cosa immaginatevi questa cosa perché accadrà è stata inserita la frase storica quindi volto di Davide e quote vado in giro per gli uffici a temperare le matite Davide Perino così senza contesto cioè è quello il mio vero lavoro poi ogni tanto mi fanno entrare in sala mi fanno dire qualche cosa per farmi contento ma il mio vero lavoro è temperare le matite io ne farei un nuovo supereroe il vigilante della notte il comista notturno fantastico è una ragazza scusami se una ragazza per strada dovesse chiederti o chiunque per strada dovesse chiederti scusa hai da accendere no te la tempero questa sarebbe la tua risposta no posso farti la punta temperate cioè non è l'accendino è il tempero no ma in realtà anche l'accendino ti hanno sempre ti hanno ribattezzato pensi ho accendini fiammiferi tutto il necessario per qualsiasi coinvenienza palese fantastico è tipo il nuovo Mary Poppins è da beta il nuovo Mary Poppins io posso dire io ce lo ricordo bellissimo di questa cosa di una sorella in particolare però mi fa ridere perché ero confusissimo perché dicevo perché neanche la conoscevo bene perché è entrata a temperare le matite le ho attaccato sta mania poi quando quando ti prende ti prende niente c'è poco da fare è perché ti soddisfa perché fa tipo l'effetto che fa ad alcune persone il cosa come si chiama gli ASMR no oddio io sono uno di quelli che non li comprende una che fa così sono quelli così sì però non fatto così fatto un pochino meglio io non lo comprendo cioè perché dovrei vedere una che per due ore fa che fastidio mamma me la prendo a me non piace però tanti invece proprio ma tanti chi no io voglio nome e cognomi della gente a cui piace la ASMR perché dicono tutti tanti piace e poi nessuno che sepa lesa sul canale voglio sapere e vabbè lo so io perché ce trovi 6.000 persone no perché fa e allora se lo faccio vedere du bocce che so du palloni pure se non faccio ASMR c'ho 6.000 persone non è quello il fatto è che io non capisco cosa ci trovino in ma la gente ci riconosce tipo dei dei suoni che li tranquillizzano che li rilasano devono romper cazzo sostanzialmente devono romper cazzo andrea eri andato benissimo fino a un certo punto poi hai mollato cioè fatti in america hanno una passione per gli slime ho visto e proprio il suono anche dello slime non lo so ne fa impazzire oh chi è chi è oh no no ciao che è successo che è successo mi chiamano perché perché devo andare a un pub ah c'è tu fai after dopo faccio after si ma gli ho detto non so a che ora finisco voi intanto andate e mi chiamano e mi chiamano dai che tra poco chiudiamo però sono le 11.40 non vogliamo mica sequestrarvi quindi dai adesso finiamo questo giro di domande no ma io con voi ci sto bene grazie ringrazio con gli altri ci sto meglio la cosa è rifiuta anche se non ho mangiato devo ancora mangiare dai dai finiamo questo giro di domanda che poi non so come si è passati dal gioco di infanzia porti vado in un finish ma oggi siamo passati vabbè sarà l'ultima però siamo passati dall'elicottero a temperare le matite a poi i capibara che i capibara che compaiono e spariscono davvero ne abbiamo attraversate tante oggi beh cavolo è stato un ultimo episodio di stagione veramente coi fiocchi cioè adesso però dobbiamo anche lasciare rimando la seconda con una nuova entri ragazzi eh sì capibara dovrei prendere il tuo punto la seconda stagione capibara eh capito dobbiamo lasciare quell'appiglio no per esplorare poi nella seconda stagione è vero è vero è vero quindi siamo passati la domanda originaria era i giochi di infanzia alla quale credo che abbia risposto solo Davide che era il gioco preferito era sparare con la pistola a mia sorella che scappa esatto alla sorella che scappa scappa tuttora avete giocato avete giocato ad una classica giornata americana vediamo ovviamente infatti realmente accaduti l'allegro chirurgo l'allegro chirurgo mi piaceva mi piaceva tanto perché c'era quel quell'alone di non so se riesco a sopravvivere o no perché secondo me non era tanto tanto salutare fare questo cioè prendere la scossa io qualche volta l'ho presa la scossa con l'allegro chirurgo eh l'allegro chirurgo ha una minima ehm non toccavi le pareti amperaggio amperaggio quello che è però comunque in qualche modo ogni tanto io il tac oppure altra cosa pericolosissima ma che mi piaceva tantissimo erano le crystal ball che ho rivisto da poco belle eh ma non sono più uguali eh non so eh le volevo comprare l'altra volta per curiosità non sono più uguali in che senso sempre comunque una gomma no purtroppo gli hanno tolto quella tossicità peccato mannaggia purtroppo sì perché era anche a me piaceva tanto quella quella tossicità che le rendeva speciali sì che ci ha reso quelli che siamo adesso che ci ha reso quelli che siamo oggi è tutto merito delle crystal ball è tutto merito delle crystal ball è vero è vero di gran parte è di do basta qua ho figlio sono i tre giochi che mi piacevano tanto da piccolino sì figo bene figo a me piaceva sì chi va vai prima a me piaceva chi si arrampicava più in alto sugli alberi mi piaceva sempre poi mi piaceva forse anche per questo strega di mezzanotte addio bomba assoluta aspetta ma c'era una c'era un qualcosa da dire queste strega di mezzanotte eh sì che era prima di entrare dico sto entrando non mi ricordo non me lo ricordo e lo scopo qual era lo scopo del gioco io non lo conosco è una sorta di nascondino al buio era molto carino però ovviamente se eri bravo quindi come ti nascondevi eccetera eccetera potevi scappare da una parte all'altra senza che ti vedessero e sentissero più eri ninja e più eri figo e magari passavi anche vicinissimo no alla strega e anche a toccarla proprio così e scappavi da una parte all'altra cioè era figo 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 e lupo mangia frutta ah nanzi cos'è lupo mangia frutta era tipo una specie di acchiapparella però tipo strega color color no strega mangia colori da vedi ecco sono insieme di comanda colori si no mangia colori strega comanda colori ok è tipo che tu dovevi dire un colore o un frutto e dovevi andare a chiappare quel frutto lì quindi una di queste persone che ci aveva questo frutto strega comanda colori blu e quindi qualunque cosa di blu dovevi andare ad afferrarla ed eri salvo automaticamente eh io me la ricordavo così strega comanda colori sì c'è anche lupo mangia frutta mi ricordo ah però confuso non me lo ricordo bene lupo mangia frutta no lupo mangia frutta giocavano i bambini ricchi mi ricordo perché c'erano quelli un po' più fichetti che giocavano lupo mangia frutta non sto scherzando eh forse era anche questione di di livello scelto sociale scelto sociale no tu mangia frutta non lo puoi giocare no esatto forse sì eh lorenzo allora strega di mezzanotte anch'io le botte le botte i colpi cioè io mi ricordo una volta una mia amica a un certo punto si è sentito tipo un tonfo e poi ah mi è stato un cazzo al camino forella e poi lo fa male sì perché correndo e poi il allora mi piaceva un sacco da piccolo da solo mi ricordo quel giochino con con gli anelletti con con l'acqua e l'aria che la quella cosa mi rilassava un sacco che nervoso sicuramente a Simone no che fastidio si non lo rilassava perdeva sempre un po' quella cazzo di cosa di plastica e quindi ti trovavi tutte le mani bagnate ti trovavi tutte le mani bagnate mani bagnate perché Simone si innervosiva e la stringeva e questa è per quello a me non perdeva ma che a me vabbè io ero un bambino povero vi ricordo comunque poi aveva fatto le cose da ricchi avevate il miglior robot voi avevate si giocava a lupo mangia frutta non c'aveva il coso che perdeva e poi quello quello con gli ipopotamini con la pallina sì carino anche quello con i pescetti pure c'era quello con la calamina bello vero vero Willow qual era il tuo gioco preferito? a me piaceva regina reginella che non so se era famosissimo era praticamente bisognava quasi come un due tre stella però c'era la reginella che ti dava le indicazioni di come fare i passi quindi c'era la filastrocca regina reginella quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la punta del coltello tre passi da leone due passi da formica che alla fine erano le reginella che poi faceva un po' alla fine c'eravano gli ultimissimi la reginella che vinceva alla fine quindi regina regina la canzoncina mi ha ricordato sì spanchi io la palla però se devo dire i quattro guardie ladri e rialzo è sempre stato chi è rialzo cos'è rialzo ma è un gioco che andava in auge nel 1900 no guarda eri piccolo è che dovevi stare dovevi trovare i rialzi per non essere preso cioè se tu sì non dovevi stare è tipo una chiapparella solo che se tu ti mettevi in salvo su un rialzo non potevi essere preso carino ok rialzo potrebbe essere qualsiasi cosa una panchina un albero ok a Erden ma ti dirò i quattro cantoni è sostanzialmente qualunque cosa prevedesse arrampicarsi lanciarsi i quattro cantoni e guardie ladri sarebbe no fatti i cazzi tuoi il futuro è passato non ho capito poi già io quella del 1900 mille adesso si intromette nelle cose degli altri vabbè per qualunque cosa prevedesse anche arrampicarsi lanciarsi buttarsi sì poi mi sono sfasciato la qualunque e ho smesso ok adesso dopo un po' ho detto è finito commento bellissimo di macro i giochi dell'infanzia di spanchi sono tipo caccia al mammutico tutta quella roba lì esattamente oh t'hanno inquadrato come tappero eh ci siamo ci siamo ci siamo li hanno fatti vedere nell'era glaciale praticamente sì ma spai chi c'era nell'era glaciale aveva già 50 anni allora Luciano qual è il tuo preferito che si fa in Sardegna acchiappa la pecora non lo so acchiappar verme acchiappar verme da formaggio acchiappar la pecora acchiappa la pecora è carino insomma guarda giocavo molto a schiacciasette tutti abbiamo pensato alla stessa cosa ma nessuno nessuno ha detto niente tutti tutti i citti tutti i citti rimasto stai offesissimo vabbè oltre a chiappare te scusa scherzavo perde la faccia è offesissimo guarda adesso non parla più è incazionissimo ma io sono siciliano Luciano che ne capisco io di queste cose vai Luciano vai non ti abbiamo sentito ora è rimasta a chiappa la pecora Luciano vabbè Luciano giocava principalmente con le palle no ci sta punendo con il suo silenzio sì con il silenzio ci sta punendo perché noi non sapremo mai schiaccia 7 era quello se i passaggi se i passaggi al settimo schiacciavi addosso a qualcuno bello mi facevo sempre malissimo anche io io le bloccavo tutte no lei è un super forte la fabbrica dei mostri bello che venivano fuori i gelatinosi strani bello c'è anche il fattore tutte le visioni e poi vabbè le micromachine con lì con la pista le micromachine con la pista la pista ma il dolce forno chi di voi c'aveva il dolce forno no io ce l'avevo quello io ce l'avevo il coso quello della fabbrica del cuoco che cacchio era nouvelle cuisine quella faceva il gelato e la fabbrica del gelato della prova del cuoco scusate della prova del cuoco mamma mia ragagna faccio più a parlare per quanto risolto Luciano veramente è stata una cosa tra capibara e Luciano tra capibara e Luciano è stata devastante incredibile allora io vi dico le mie le mie erano mini 4 vd non so se ricordano quelle macchinette che tu portavi a scuola e ci facevi legare queste macchinette era figo perché a differenza di micromachine o quelle che ti trovavi là avevano tutto intercambiabile quindi motori gomme batterie batterie quindi tu andavi a gara per chi c'aveva il motore più potente la macchina più performante te le sistemavi come ti pareva cambiavi il fuente era una figata quindi se non ci avete giocato mi dispiace perché la vostra infanzia non sarà completa ma è un altro gioco da ricchi quello eh ricchi cioè da ricchi era un gioco bello interessante vabbè lo yo yo quello là che rimaneva a terra e ci facevi con la frizione esatto tutte le acrobazie e da tavolo mi piaceva un casino hotel e tuttora ogni tanto ci gioco mi piace piace costruire le varie cosine che vanno sulla mappa invece perdo un bot è bellissimo tipo il waikiki c'era il boom poi il resto non me ne frega un cazzo lanciare i dadi non mi interessa però era un gioco in un gioco carino e se devo scegliere una quarta cosa ti direi mister muscolo era quel pupazzo idraulico gel quel pupazzo che si tirava tutto diventava lunghissimo quindi sì questo è mister muscolo tanta roba e anche quello quando si apriva poi perché si sfalsava si bagnavano le mani tipo farina c'era dentro no c'era un liquido un liquido geloso collosissimo che ti rovinava tutta la casa tutti i giocattoli perché se avevi la cesta dei giocattoli no sì contaminava tutti gli altri esatto a me è successo questo da bambino povero già ne avevo pochi i giocattoli figurati poi ti sono super rovinati cazzo mi ha rovinato tutti gli altri giocattoli no però esistevano anche delle palle con gli occhi di farina tipo che erano sempre squisciose gli antistress si sono quelle che i bangla tiravano sempre per terra per farti vedere che si bravo che si sbracciavano si sbracciava senza esplodere poi in mano a noi esplodevano a proposito di antistress una cosa che mi ricordo vai Lore gli schifidol schifidol si i puzzones oddio che sono chiusi nei bidones tra l'altro qua vicino da me a Sassari c'era la fabbrica del super mag non so se lo ricordate dai ma che dici che so quei cosi magnetici che se geomag esatto belli geomag a proposito di antistress i miei antistress preferiti erano due tette e non sto scherzando cioè mi avevano regalato proprio due antistress a tetta cioè col capezzolo ma ha fatto bene ma che scusami gli antistress ma ci avrà avuto 12 13 anni però mi piacevano un casino infatti li portavo in giro la gente li portava malissimo ci credo che quando c'era la donna attaccata erano solo due tette non c'era attaccato niente ve l'ho detto stasera ragazzi non so che è successo però ti vedo praticamente stasera senti che l'ultimo episodio devi giocare le stai spara a tutte le tette la tua calza comunque diventa sempre più viola devi stare bene Simone raga ma veramente gli regaliamo una maglietta una maglietta con la stampa del capibara cioè no è perché l'effetto caccamo ragazzi l'effetto caccamo di mai dire golle che mi fa ridere tantissimo di Lorenzo che si che scompa la cravatta di come si chiama teo teocolin mai dire golle ve lo ricordate quando faceva caccamo è che aveva la cravatta in verde evidentemente con lo sfondo che contrastavano ecco è certo fa ridere tantissimo sta cosa che lui ogni tanto scompare ma scompare guarda vai indietro poco a poco vai indietro di giorno sono Lorenzo ma di notte sono un capibara e poi spunta con il è meglio quando si rialza Undertaker verso l'alto spunta è meraviglioso grazie di esistere tu e il capibara wow Simone Simone stasera sta dando dichiarazione a destra e a sinistra prima a Luciano ma lo sapete perché ho imparato a meditare sappiate che forse questa cosa mi sta quindi poi ti spoghi ti sta aprendo ma la meditazione tantrica Simone no per ora sto praticando la mindfulness e oggi mi è successa una cosa molto particolare che però vabbè tengo per me ma voglio dire è una di quelle cose che sto iniziando no no non ha nulla a che fare con elezioni di nessun tipo ecco per me ma voglio dire con elicotteria no niente no niente basta questo sto entrando in questo percorso di intro bello 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 apprezzo apprezzo molto di più il presente basta i regali quindi la bolla cosa il presente sì i regali va bene raga siamo arrivati quasi alla mezzanotte quindi andrei in chiusura così lasciamo le cose belle devono finire poi lasciamo anche Davide andare al pabetto però al pub fatelo dire non sarà la stessa cosa cioè tu hai raggiunto il picco con noi e adesso qualsiasi altra cosa andrai a fare sarà comunque più bassa cioè più divertente concordi giustamente da questo momento in poi è comunque un lento di scendere verso la tristezza e l'addormentarsi a letto così sono d'accordo nulla cosa sono d'accordo anzi bevi anche alla nostra nostalgia di un ricordo di una puntata che dovrò per riassaporare queste cose dovrò aspettare fino a settembre cavolo cavolo Davide mi sta facendo pesare questa cosa che la stiamo facendo andare ma lo inviteremo in altre live se romperai il cazzo ti conviene organizzare qualcosa in questi quattro mesi lo farò lo farò altrimenti mi state minacciando anche questa era una minaccia velata Lorenzo ti conviene organizzare Lorenzo perché stai scaccolando il capibara non ho capito no il capibara mi sta facendo il segno va bene va bene possiamo fare una puntata sola estiva per salutarci prima dal vivo a casa di spanchi dal vivo sarebbe una bomba dai spanchi ti prometto che non succederà niente a rufio però dacci casa perché ci serve quella è casa ma ma voi fiere dei fumetti se hai comics qualcosa come siete organizzate vabbè a parte non possiamo non possiamo parlarne fin quando non esce però io io vado a soncino soncino esiste il soncino comics il soncino fantasy fanno l'insalata non lo sapevo conosco soncino fantasy soncino è il 25 aspetta adesso lo voglio cerchare cremona soncino fantasy ed è stato fatto anche il bel gioioso il bel gioioso lo conosco è sempre gli stessi organizzatori ah è sempre colpa loro quindi vabbè è sempre colpa loro bene vabbè dai lo organizziamo una puntata estiva a casa dei spanchi dai se può fare Luciano sazzando la mano io vorrei proporre una location un po' più dai dai che rufio te lo coccoliamo noi gli facciamo niente non hai capito Luciano sta per mettere a disposizione la sua villa in Sardegna il problema è che non mette il denaro per arrivarci alla villa in Sardegna è certo noi siamo tutti di Roma tranne comunque Simone ovviamente però mette vitto alloggio ma che vuol dire cioè non è che può dire ai nostri ospiti ok venite a casa mia avete pagato c'è la piscina no agli ospiti lo paga spanchi casa tua boom no c'è la piscina ha detto ma scusa ma non sei notare o da una parte o dall'altra qualcosa dal vivo va bene va bene ci prendiamo questo impegno che facciamo una cosa dal vivo da qui a settembre prima di settembre quindi per il periodo estivo va bene o a casa di Spenchi o a casa di Simone o a casa di Lucano come è uscita fuori casa di Simone è un isolano è un isolano anche lui ma Simone Simone fammi capire sta cosa l'ultima e poi chiudiamo ma dato che in albergo tu hai questo bisogno impellente dell'elicottero lo fai in ogni casa in ogni casa nuova tipo cioè va a casa di Luciano e devi inaugurarla allora ragazzi io in questo momento sto facendo l'elicottero ho sviluppato un potere muscolare che mi permette senza sì sì senza l'ausilio della gravità e della forza centripeta di far girare tutto il Giulia è un parato Luciano è interessato si sta leccando il dito sto vedendo un sacco di cose proprio film Simo facci sognare fai un attimo una mossetta facci illudere che lo no ragazzi non posso non posso mettermi in ridicolo così davanti a no ha ragione mi avete preso sono un professionista cioè veramente ci fai fare è un elicotterista serio lui va bene va bene con questa perla andiamo in chiusura andiamo in chiusura ringraziamo ovviamente tutti voi che ci avete seguito fino all'ultimo per questo bellissimo episodio di prime time vi promettiamo che da qui a settembre che ricomincerà la seconda stagione cercheremo di organizzare almeno una cosa insieme dal vivo che verrà trasmessa una bella cena così se magna una bella cena così se magna a casa dei spanchi e poi ringraziamo anche le persone del mio team che mi hanno fatto compagnia eccezionalmente in questo prime time ma soprattutto davide lorenzo giulia e simone che è sempre un grandissimo piacere poter passare del tempo insieme voi siete le colonne portanti di questo format quindi grazie 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 colonne o colonne grazie a voi grazie a voi no spoiler grazie a voi ragazzi bene grazie a voi buonanotte a tutti ci vediamo domani no io ho finito oh io stasettimana ho finito le live non mi vedete fino a mercoledì che bello che bello quindi fino a mercoledì no che bello è triste ma scusami ma spoiler abbiamo già detto lunedì lunedì che vuoi dire che ci sarà Mario Cordo ma non è importante lo scoprono poi nel fine settimana ma che se sì c'è la programmazione dai buonanotte grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti